Pronto, pronto, sì. Per proiettare? Sì. Allora, il collegamento ci vuol dire, se vuole parlo di un computer? No, diciamo senza. Tutto non si dà, allora si parla a braccio e va bene, guarda. Se non lo diceva prima, vi faccio dare le slide. No, 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 io devo avere il controllo di situazione. Come lo vedo? Lui c'è proprio. Sovranità. Esatto, sovranità. Sì, ma una cosa, ma se il personal computer ti chiama personal computer, ma ci sarà un motivo. Ale, io cosa faccio? Ti chiamo il video e partiamo? Cosa dura? Minuti? Tre minuti. Poi no, però. Ti chiedo la piottesia, ti chiedono che facciamo dare il video, poi spegniamo, poi spegniamo, perché va sui tre monito. Poi questo lo spegniamo e se lo vedo. La Digo si è a posto, si è a durte, tranquilli. No, ancora un po' di più. Ci sono gli ultimi tre o quattro posti là in fondo, quindi chi vuole sedersi, entri adesso, taccia per sempre. Quanti ce ne sono? Sei. Sei. Crepi la varizia. Sei posti. Sì, per motivi di sicurezza ci chiedono di essere tutti seduti prima di cominciare possibilmente. Sì, per motivi di sicurezza ci chiedono di essere tutti seduti. Va bene. Innanzitutto, grazie a tutti per la presenza. Fa strano a me personalmente riempire una sala il sabato pomeriggio per parlare non di calcio ma di economia. però evidentemente l'euro truffa, la fregatura più colossale degli ultimi decenni sta risvegliando molte menti. Quindi grazie a chi è qua, grazie a chi ci sta seguendo. Un grazie alle migliaia di persone che ci stanno seguendo in diretta sulle frequenze di Radio Padagna Libera e dal sito lapadagna.net facciamogli sentire che ci siamo e abbiamo voglia di capire quello che non ci hanno raccontato. Io parlo poco e introduco. Premetto che non siamo qua a vendere certezze. Le certezze e le verità che ci hanno venduto per ignoranza o più probabilmente per malafede ci hanno portato ad avere dei dati economici da guerra. Non ci sono più i Panzer però probabilmente fa più morti questo tipo di Europa. Io ci tengo a chiarire, la Lega evidentemente non è contro l'Europa Milano è nel cuore dell'Europa però di un'altra Europa, dell'Europa che ci tiene ai territori alle sovranità, ai lavoratori, agli agricoltori non serva di nessuno ma padrona della sua moneta e del suo futuro. Quindi gli unici europeisti che sono rimasti in Italia in questo momento siamo noi e quelli che odiano l'Europa sono gli altri. Quindi chiariamoci subito sta cosa. Io passerò la parola ai professori Borghequilini, Rinaldi e Bagnai che ringrazio per la loro assoluta e squisita disponibilità e li ringrazio anche per essere partiti prima perché se siamo qua oggi è perché anch'io personalmente me ne sono interessato dopo. Come Lega vantiamo una primogenitura assoluta nel senso che gli altri cambiano posizione noi come Lega abbiamo il congresso fra poco io mi sono andato a rileggere e ci metto 30 secondi l'intervento di Umberto Bossi al congresso della Lega Nord del 1998 quindi stiamo parlando di 15 anni fa non di 15 giorni fa e Umberto Bossi 15 anni fa diceva e scriveva l'Europa monetaria ci costerà cara questa Europa è un mostro che non genererà né democrazia né stabilità né vantaggi economici per tutti le leggi finanziarie degli stati si ridurranno ad un semplice fax inviato da Bruxelles 15 anni fa ci prendevano per scemi gli scemi erano gli altri evidentemente a noi oggi arrivare alle conseguenze arrivare alle conseguenze noi adesso prima di sentire gli interventi ecco come ho pensato la giornata tre interventi ognuno nel suo campo di persone che hanno storie, estrazioni, professionalità assolutamente diverse che però ci uniscono per la stessa battaglia comune che in questo momento nel nome del primum vivere e poi filosofare è salvare quello che rimane del nostro lavoro della nostra impresa del nostro artigianato e della nostra agricoltura perché altrimenti noi libereremmo la padagna che sarà desertificata da ogni tipo di iniziativa economica e imprenditoriale quindi prima salvare il lavoro prima riprenderci il controllo e la sovranità e poi continuare la battaglia di indipendenza che ovviamente è nostra e non smettiamo neanche per un minuto però prima salviamo se hanno chiuso 60.000 negozi nei primi dieci mesi dell'anno evidentemente è una guerra in corso e quando c'è la guerra in corso ti metti l'elmetto e vai a combattere non vai a fare filosofia politica quindi siamo in guerra mettetevi l'elmetto e prepariamoci a combattere non c'è tempo per le mediazioni per le discussioni per le filosofie quindi interverranno loro ciascuno dal suo punto di vista e poi ho chiesto a loro la disponibilità e mi sembra che ci sia anche a non fare un monologo ma a rispondere anche alle domande varie ed eventuali che ci sono perché gli euro entusiasti nonostante siano un po' meno entusiasti adesso evidentemente rispetto a dieci anni fa però eh ma non si può l'euro non si tocca non si può costa un casino che fine fa la pensione e il mutuo e quanto mi costa far benzina e la tassa dell'università di mio figlio e io ho i bot e quindi poi però prima viene la libertà Oriana Falaci ha scritto in un uomo che credere nell'uomo significa credere nella sua libertà quindi prima ancora dell'economia secondo me è la cosa drammatica che leggendo ad esempio il libro del professor Bagnai che vi consiglio poi di prendere perché l'ho capito io che ho fatto liceo classico e storia quindi vi garantisco che se l'ho capito io è alla portata di tanti e magari prendete in una coppia a offerta libera in euro o in lire all'uscita e regalatela agli ultimi dei giapponesi euro entusiasti che magari avete in ufficio sul pianerottolo perché a fronte di quei dati lì c'è poco da essere o uno ha il paracarro come simbolo di flessibilità oppure di fronte ai numeri è difficile non cambiare idea e quindi siamo qua per ragionare per fare controinformazione ecco l'ultima annotazione la do da giornalista prima ancora che da politico e da partigiano della mia terra ecco se hanno potuto compiere quello che è stato un colpo di stato un genocidio l'altra sera da Santoro ho usato il termine crimine contro l'umanità e c'era Cuperlo che si è svegliato quando l'ho detto e ha sgranato gli occhi io l'ho svegliato e mi è spiaciuto averlo svegliato però ha detto grazie però 5 milioni di poveri e 4 milioni di disoccupati sono numeri criminali non sono errori però se hanno potuto fare questo l'hanno fatto con la complicità di tanti se non di tutti cosa scrivevano i giornali cosa dicevano le televisioni ve lo ricordate il primo gennaio 2002 champagne spumante majorette adesso per farvi digerire il caffè noi abbiamo mangiato leggero in un ristorante milanese io risotto con l'osso buco quindi in modo migliore anche il professor Bagnai cotoletta e tagliolini quindi questo per l'interesse col cinghiale giustamente per stare per essere in subrico il professor Borghi ci ha messo dentro il cinghiale però per per digerire partiremo con una pillola di buon umore che sono il discorso alla nazione di Romano Prodi sul eh no eh sì però sì come in aereo ci sono i sacchettini però torniamo indietro di undici anni chi osava dubitare era additato come persona spregevole come come gli untori come si fa a dubitare del progresso del futuro della gioia del lavoro e la Lega è nata per resistere per rompere le palle e quindi sono convinto che che arriveremo al risultato però per non lasciare da solo Romano Prodi per par condicio siccome è una battaglia che non vogliamo fare con la destra o con la sinistra se Romano Prodi lo ascolteremo disse quello che disse Silvio Berlusconi a cui va il saluto della sala però il 26 novembre del 2001 disse con l'euro ci sono le premesse di una nuova stabilità diamo il benvenuto alla nuova moneta è un'idea straordinaria con l'euro è stato bandito il peccato monetario quindi poi siccome Berlusconi è un genio e magari fra un mese arriverà a dirci che l'euro è una porcheria ricordiamogli che prima era un'idea straordinaria vi risparmio Monti perché poveretto non so se è più fra noi però quando disse sulla 7 che il più grande successo dell'euro è la Grecia o gli mandi la croce rossa o gli mandi un assistente sociale però questo perfetto ecco quindi guardiamo al passato per ricordare gli errori fatti da noi e da altri ma per ragionare di futuro quindi ho parlato anche troppo poi proviamo a capire noi siamo in sala li vediamo in che faccia però chi ci segue via streaming anche chi è sintonizzato alla radio e magari sta lavorando e magari è a casa e magari in negozio e magari è sul taxi faremo la parte di descrizione e poi ci sarà la parte per le domande perché dobbiamo uscire da qua ben convinti che non è una battaglia come tante è la battaglia indipendenza io la coniugo al giorno d'oggi da Roma e da Bruxelles nel senso che se non riusciamo a essere indipendenti su entrambi i fronti siamo zoppi l'indipendenza solo da Roma non basta e l'indipendenza solo da Bruxelles non basta quindi dobbiamo combattere due fronti però penso che abbiamo tutte le energie per farle anche perché poi i professori ve lo diranno hanno provenienze culturali universitarie economiche professionali le più diverse ma se tre persone diverse quattro cinque dieci persone diverse che arrivano da vie diverse si trovano sullo stesso punto d'accordo evidentemente così strampalata la teoria non è non so se la regia è pronta a regalarci i due minuti di Zelig prima con Prodi e poi con Mario Monti poi cominciamo a parlare di cose serie hanno tolto l'audio a Monti che potrebbe essere anche una cosa positiva secondo me stiamo assistendo non è un paradosso al grande successo dell'euro e qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro la Grecia perché perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica ma soprattutto per convincere la Germania che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta che attraverso l'euro attraverso i vincoli che nascevano con l'euro la cultura della stabilità il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare caso limite di una Grecia che da è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa questa è Atene è la stabilità che c'è ad Atene grazie a quella porcheria di cui parlava Mario Monti che c'è No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Quindi dobbiamo informarci. La prima domanda che dovete porvi è come siamo capitati in una situazione del genere. Perché partite dal presupposto che non c'entra l'euro, voi siete qui e vi volete domandare cosa sono le cause della crisi. Lo vedete tutti che ci sono le cose che non vanno troppo bene, però nessuno vi spiega o nessuno si sofferma più di tanto a capire del perché le cose stanno andando male. E vi distraggono con una marea enorme di cose che non c'entrano nulla e che magari sono sì brutte, sì cattive, ma non è quello. Ma cosa pensate? Che se noi domani vaporizziamo tutte le auto blu esistenti in Italia, istantaneamente abbiamo un negozio pieno di clienti? Ma chi se ne frega! Non è quello, solo che la gente pensa, incanalano così l'odio verso degli oggetti che non servono a nulla, verso dei falsi scopi, sapendo che la gente, in tutta sincerità, in tutta onestà, segue questi falsi obiettivi, ma non si va a toccare cos'è il centro del problema. Anche qui, sempre, ogni tanto mi ritrovo in televisione dove dico, ma scusate, ma perché noi abbiamo pagato senza che nessuno dicesse nulla? Nessuno dicesse nulla, non ci fosse un singolo dibattito portato in televisione o anche in Parlamento per dire sì o no. Perché abbiamo pagato 52 miliardi a fondi europei per pagare i debiti degli altri? E invece stiamo combattendo come i polli di Renzo per 2 miliardi dell'Imu? O per un miliardo dell'Iva? E intanto per 52 miliardi nessuno ci ha detto niente. A quel punto mi guardano e passano così, mi dice, c'è un punto di vista interessante, parliamo adesso dell'Iva o parliamo dell'Imu o cose di questo tipo, perché non si deve parlare. Mi dicessi no, è falso, cioè non abbiamo un debito pubblico che è cresciuto di 50 miliardi perché abbiamo passato le cose, è falso, hai dei dati sbagliati. No, mi dico, eh, ma l'Iva, ma l'Imu, ma Rubi, ma le auto blu, ma... Cioè, purtroppo è così. Ora, dove... quindi cancelliamo la nostra mente. Dobbiamo fare questo sforzo di depennare quello che credavamo fosse vero, quello che credavamo fosse normale e adesso cerchiamo di invece concentrarci su quello che forse in fondo noi sapevamo che era così, ma che non abbiamo mai avuto il coraggio, il tempo o la capacità di guardare negli occhi, così come per tanto tempo non l'ho avuto io. Quindi non sentitevi in colpa, io sono uno che si occupa di economia, di mercati finanziari da praticamente da quando sono nato e per tanto tempo non me ne sono accorto io di quello che stava succedendo. Quindi come è capitato a me non vedo perché non doveva capitare a voi. Per cui, tranquilli, però una cosa è non sapere le cose prima, una cosa è non riconoscerle quando gliele spiegano. Quindi da quando uscirete qua voi, di scuse non ne avrete più. Quindi mettetevi tranquilli che la vostra vita non sarà come prima, perché dato che ve l'abbiamo detto, le scuse poi dopo non ce le avete. Quindi fino adesso siete, come dire, avete il peccato originale, oggi fate un battesimo nel Giordano e poi dopo siete fuori e non avete più dubbi. Quindi ora partiamo dal primo problema, la disoccupazione. Quando io ho iniziato a lavorare, ho iniziato a lavorare nell'89, alla fine del liceo, la disoccupazione qua al nord era zero. Chi non lavorava non aveva voglia di lavorare. Non c'erano dubbi. Non c'era una persona che se non volesse fare un lavoro non lo trovava. Magari non trovava quel lavoro che gli piaceva a lui sotto casa sua, ma se voleva un lavoro lo faceva. Per dire, un mio caro amico, fra l'altro militante leghista, insomma magari anche qua, comunque un mio caro amico militante leghista lavorava con me in banca a un certo punto, fu licenziato. E andò Alessia Lunga a scaricare le casse. Lo presero subito. Per me è stato un esempio di vita grandissimo. Stette per poco tempo, perché poi trovò subito un altro lavoro. Ma non ha avuto un attimo di problema trovare un lavoro quale che fosse, posto che lui aveva voglia di fare un lavoro quale che fosse. Io iniziai a fare il fattorino, iniziai a fare il fattorino e studiavo la sera intanto qui in Cattolica, perché qua a Milano abbiamo sempre avuto la cultura di lavorare e studiare, perché si poteva fare. Comunque iniziai come fattorino in borsa. Però a Piazza Affari la borsa c'era. Adesso cosa c'è in Piazza Affari? Chi? Quale dito? Il dito medio c'è in Piazza Affari, di travertino sotto e di marmo sopra. Ecco, digitus impudicus. Vado lì in Piazza Affari, se anche avessi avuto giovane, volenteroso, che dice faccio il fattorino, e così questo tipo, trovo un dito medio, non trovo una borsa per potersi farsi assumere. E cos'è successo? E così per tanti altri che volevano iniziare come apprendista, che volevano iniziare con qualche... Magari usciti dall'università, avevano delle ambizioni poter fare. All'epoca il curriculum tante volte veniva accettato prima dell'uscita dall'università. I problemi dell'università era trattenere i ragazzi fino alla fine degli studi, perché le industrie se le strappavano prima, se le strappavano al terzo anno. Ma cos'è successo? Ma gente che si è sempre spaccata la schiena in fabbrica per produrre dei prodotti, per fare dei lavori che andavano benissimo, che alla fine hanno consentito a tante famiglie di costruirsi, partite da zero, di costruirsi una posizione, una posizione dignitosissima. Abbiamo disimparato tutti improvvisamente a lavorare? Abbiamo disimparato tutti a produrre le nostre cose? Abbiamo disimparato la voglia di lavorare? Ma io penso di no. Che ci sia qualche lazzarone, per carità, magari qualcuno che si è seduto sugli allori, è in dubbio, ma c'era anche alla mia epoca, che aveva voglia di lavorare, invece il lavoro lo trovava. Adesso non c'è. Io adesso sto male, perché ogni tanto mi arrivano sulla scrivania, pensando che io possa avere chissà che poteri taumaturgici dei curriculum di gente che dovrebbe meritare tantissimo, e non posso neanche pensare di propogli un posto di lavoro a questa gente qua. Non posso pensare perché il posto di lavoro non c'è. E cos'è successo? Cominciamo a pensarci cos'è successo. È successo che improvvisamente siamo entrati in questo meraviglioso mondo della moneta unica che avrebbe aperto tutti i mercati, le opportunità. Ora, se noi andiamo a guardare i dati economici che non mentono, i discorsi che possiamo fare, le filosofie politiche possono essere quello che vogliamo, però purtroppo ci sono dei dati economici che registrano in modo impietoso come un cardiogramma ti registra in modo impietoso che tu stai avendo un infarto e tu puoi raccontare quello che vuoi, ma l'infarto ce l'hai, e tu puoi anche raccontare quello che vuoi, che le priorità sono altre, che in realtà sei grasso, che hai l'acne, che hai la scabbia, che hai qualsiasi altra malattia schifosa ti possa venire in mente e che non si può negare che ci sia, è lo stesso motivo quando uno dice la casta, i politici, non è che sono puliti, no, fanno schifo, per carità, lo possiamo anche sapere, ma tutte queste malattie che uno può avere non contrastano con l'urgenza dell'infarto. Cioè l'infarto devi curare quello, se no muori e tutti gli altri non avrai mai il tempo di curarli, non avrai mai il tempo di metterti a curare la scabbia, non avrai mai il tempo di metterti a curare l'acne o l'obosità o qualsiasi altra cavolo di problema tu possa avere. In questo momento noi abbiamo l'infarto e in questo bisogna lavorare perché non c'è altra priorità. Cos'è il dato che veniva registrato come indice dell'infarto? Perché in teoria tutto sembrava andare bene, all'inizio dell'euro la disoccupazione, scendeva anche. Non so se vi ricordate, c'erano dei periodi che tutto sommato sembrava quasi che i soldi venissero fuori dalle piante. Dice, ma da che parte vengono tutti questi soldi? Ma pensa, no? E così via. Quindi all'inizio sembrava che tutto andava bene. Ma c'era un dato che in realtà doveva farci riflettere, vale a dire la differenza fra le importazioni e le esportazioni. Quello cominciava ad allargarsi piano, 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 ma inesorabilmente dal momento in cui noi abbiamo fissato il cambio, vale a dire, cominciando dagli anni vicini al 96-97. E a quel punto noi abbiamo progressivamente continuato ad avere una moneta che ogni anno, ogni secondo, diventava più forte rispetto a quella che noi avremmo dovuto avere. E la moneta più forte rispetto a quella che noi abbiamo dovuto avere comporta una cosa molto semplice, che ci risulta molto più comodo comprare cosa estere. E allora, ogni giorno, senza accorgersi, il listino dei listino prezzi dei beni prodotti all'estero era sempre più conveniente. E noi cominciavamo a comprare sempre più allegramente questi prodotti esteri, che prima erano troppo cari perché non ce li potessimo mettere. E quindi il nostro frigo non è più diventato un frigo italiano, ma era un frigo tedesco. La nostra macchina non era più una macchina italiana, ma era una macchina tedesca. Il nostro televisore non era più fatto in Italia, ma era fatto in Germania, in Corea o da qualche altra parte. E man mano cominciavamo a sostituire tutto. Adesso, non so se vi rendete conto, stiamo cominciando a sostituire anche il cibo. Io ho preso un succo d'arancia, io sono diventato matto l'altro giorno, matto, perché poi dopo io... Capite che avendo questo tipo di battaglia in corso faccio attenzione a tutto. L'altro giorno il succo d'arancia a casa era austriaco. Dico, ma che diamine sta succedendo? Il succo d'arancia austriaco! Il succo d'arancia! Allora a quel punto cosa succede? In realtà più è forte la moneta, più ti conviene comprare cose estere. E c'è un piccolo problema però, che se tu passi tanto tempo della tua giornata a comprare cose estere, chi lavora in Italia? Se le cose vengono prodotte all'estero, chi è che in Italia lavora? Nessuno! Si crea disoccupazione. Si crea disoccupazione. Le fabbriche chiudono. I negozi chiudono. E chi è avvantaggiato ne approfitta. Compra il tuo marchio. Mette il supermercatone. E tu che hai un negozio, tiri giù la serranda. Ma lo possono fare perché sono più forti. Perché il loro listino prezzi, al contrario, invece, diventa sempre più conveniente. Se la Germania avesse avuto il marco, ebbè, a furia di esportare il suo listino prezzi dei suoi prodotti aumentava. E diventava sempre più complicato per gli altri comprare i loro prodotti. E no, invece, il loro listino prezzi, fermo, qualsiasi sia la quantità di prodotti che loro vendono, che loro riescono a vendere, il loro listino prezzi non aumenta mai. E quindi è come se diminuisse in proporzione. Perché è ovvio che se tu hai una fabbrica che vende tantissimi prodotti, poi dopo fai tanti utili. È più facile fare un prodotto più bello, più cromato, più nuovo, più innovativo. Se tu dall'altra parte non stai vendendo niente, devi giocare in difesa. Devi tagliare, devi licenziare gente, devi risparmiare sui materiali, il tuo prodotto diventa un pochettino più bruttino, un pochettino meno concorrenziale. Eppure il tuo prezzo non cala mai. A quel punto il tuo vantaggio della moneta forte viene simpaticamente rimpiazzato da una moneta forte, ma è un portafoglio vuoto. Perché, capite benissimo, che fra avere una moneta che vale 100 e averne 100 che valgono 10, è meglio averne 100 che valgono 10. Invece no, a moneta forte, moneta forte, ma se sei disoccupato come te la guadagni quella moneta forte? Non ce l'hai. E infatti, quando poi dopo c'è stato un punto di rottura, vale a dire quando ha cominciato la crisi finanziaria internazionale, a cui noi eravamo totalmente immuni, perché le nostre banche hanno una marea di difetti orribili, però quantomeno erano talmente arretrate, talmente rincoglionite, scusate il coso, che almeno i titoli tossici, quelli su Prime e quelle robe lì non ce li avevano, non sapeva neanche come scriverlo, figurassi se lo comprava. Quindi quelle robe lì non ce le avevano. Mentre gli altri saltavano per aria, le altre banche, le nostre banche non c'erano, quindi noi in teoria potevamo anche stare lì a guardare tutto. Però l'illusione che avevamo scoppia, perché? Perché quelli che ci prestavano i soldi, in realtà per farci credere che andava tutto bene, che la liquidità abbondava e quindi per comprare tantissimi loro ottimi prodotti, le banche estere invece sono andate in difficoltà e forti. E a quel punto hanno tirato indietro la mano e qua è sparito il denaro. Istantaneamente sono spariti i soldi, perché chi li prestava non li ha più prestati. E a quel punto noi siamo rimasti soltanto con la pepatencia, vale a dire, con le industrie chiuse. Industria chiusa, negozio chiuso e più nessuno che ci presta i soldi. Eh beh, capite adesso che era inevitabile andare male. E il nord è il primo, cioè se dobbiamo trovare uno, il massimo fregato di tutta questa storia qua, il nord Italia. E il nord Italia perché è il massimo fregato? Perché le industrie erano qua. Era l'industria del nord che era in competizione con la Germania. Non altro. Il sud Italia aveva un altro tipo di industria residua che già era stata schiacciata dal fatto che la lira, ahi noi, era troppo forte per loro. Eh, la lira era un po' quello che li ha fatto trovare il sud nella posizione similare a quella in cui noi ci troviamo adesso. Infatti tante volte uno dice cos'è, cosa dobbiamo rimproverare al nostro passato? E nel nostro passato qualche volta abbiamo forse attribuito troppe colpe a qualcuno che certo ne aveva di sue, ma non siamo mai andati a vedere poi cosa fossero le cause di quello che succedeva. Vale a dire, se noi, immaginate, io faccio sempre questo esempio. Per esempio, immaginate che l'industria del nord Italia avesse un peso di 10 e quindi fosse analoga a quella della Germania. Pianura padana non ha nulla a invidiare alla Germania come industria, no? Allora, peso di 10. L'industria del sud avesse un peso di 2. La moneta italiana non era la moneta del nord Italia e non era la moneta del sud Italia, era una moneta di una media. E quindi mettiamo 10 più 2, riso 2 per fare la media. La lira era una moneta da 6. Questo significa che l'industria del nord aveva un vantaggio competitivo. Era un po' messa come la Germania adesso. Vale a dire, i suoi prodotti partivano con un listino prezzi già ribassato, con lo sconto. Quindi i prodotti dell'industria del nord erano facilissimamente piazzabili in tutto il mondo. E tanta gente ha fatto fortuna su questa situazione. Dall'altra parte cos'era il rovescio della medaglia? Che bisognava sussidiare chi aveva invece un'industria potenzialmente da 2 e doveva gestirsi una moneta da 6. Troppo forte. Se uno doveva aprire una fabbrica, l'apriva a Vercelli o l'apriva ad Agrigento? A parità di costo l'apriva a Vercelli per forza. Per tutta una serie di motivi che non sto a ricordare. E allora cosa succede? Succede che in realtà questo bipolarismo era quasi una specie di simbiosi che ci teneva un po' in piedi. Vale a dire, l'industria del nord era vantaggiata dal fatto di essere con una piccola palla al piede che pesava quindi sulla cosa. Ma la moneta gli dava quello slancio sufficiente per pareggiarla. E questa cosa veniva pagata con i trasferimenti. A sua volta poi il sud comprava i prodotti del nord. E in una maniera o nell'altra noi ci tenevamo in piedi. In maniera un po' stortignacola. Sarebbe stato molto meglio sistemare prima questa situazione. Perché poi è ovvio che i pagamenti interni generano mafia, generano criminalità. Perché è ovvio, se uno ha un tubo di soldi che viene trasferito giù, poi chi lo gestisce questo tubo? La prima cosa che succede è che si avvicina a qualcuno, lo prende sotto la spalla e dice senti amico, adesso ti dico cosa bisogna fare. E questo purtroppo succedeva. Però in ogni caso era un equilibrio che ci stava. Nel momento stesso in cui hanno detto 10 per tutti. 10 per tutti sembra equo, ma non è equo per niente. Perché se ci sono due corridori dove uno è piccolo e agile e pesa 50 chili, però è molto veloce, molto sveglio, molto pronto come la piccola industria del nord. E dall'altra parte abbiamo uno che pesa 100 chili, forte ma lento, pesante, e si dice per equità tutte e due un bello zaino di 40 chili. Quello che il poveretto piccolo e agile sotto lo zaino ci finisce. Fa boom. Quell'altro invece va, quindi non è equità. Hanno disegnato una cosa attorno che fosse esattamente su misura per i nostri concorrenti. Hanno disegnato delle regole assurde, le curvature delle banane, dei cetrioli, in modo tale che chiunque avesse una piccola impresa fosse seppellito di catate da compilare, da moduli, limiti, cose di questo tipo. E se no multe, sanzioni devi chiudere, devi sbarrare, cose di questo tipo. Mentre invece dall'altra parte un'industria con 100.000 persone poteva mettersi lì a fare l'ufficio curvatura banane, l'ufficio diametro cetrioli e così questo tipo. Senza accorgersene, senza avere problemi. Tutto disegnato su misura per altri. Questa situazione ci ha fatto andare sempre più fuori competitività e adesso il risultato è quello che troviamo. Non ci prestano più soldi. Siamo sotto scacco da parte di una banca centrale che non eletta nessuno, non si capisce chi sia. Adesso c'è un italiano, ogni tanto ci dà anche una mano per tenersi vivi col respiratore, ma non è che lo fa per il bene nostro, lo fa per il bene suo. Ma è la volta dopo che arriva un altro pazzo, cosa facciamo? I soldi vengono decisi da chi, ma chi ce li dà? Cioè uno a un certo punto decide io stacco il rubinetto e voi cosa fate? Quindi non abbiamo più nessuna leva per contrastare l'economia e ci dicono di fare le cose il contrario di quello che bisogna fare. Perché poi dopo, quando tu sei bello morto, quando tu non hai più nessuna difesa, quando tu sei sdraiato per terra e non puoi più competere, allora arrivano e ti fanno firmare la donazione. Quindi dammi i leni, dammi i tuoi beni, dammi quelle tue industrie che mi vanno bene, dammi la Bulgari, dammi questo, dammi quest'altro, dammi i tuoi negozi, dammi i tuoi supermercati, dammi... Avevo in mente qualcosa e non possiamo dire di no a quel punto perché siamo per terra. Ora, per adesso, grazie all'incredibile capacità degli imprenditori, specialmente di molti imprenditori del nord, siamo ancora in piedi. Miracolosamente, perché da qualsiasi altra parte invece Grecia, Spagna e così via, hanno già alzato bandiera bianca da tanto tempo e noi li stiamo pagando per tenere sul giochino. Quindi, chi dice, ah, la Spagna riprende, la Grecia riprende, così questo tipo. Allora, al Portogallo sono stati dati circa 70 miliardi di soldi nostri, che significa la metà del PIL, quindi significa come se a noi ne dessero 750. Quindi, attenzione, qui l'unico paese al mondo in crisi che paga siamo noi, non si capisce proprio per che motivo. E io quello che mi domando è, una volta che si è chiarito questo quadro e che abbiamo visto dov'è il buco, abbiamo visto che non è possibile in nessun modo economicamente parlando avere una moneta che è sopravvalutata del 30% essere competitivi. Non possiamo, non possiamo, non possiamo. Una volta che abbiamo visto questa simpatica situazione, avere della gente che ancora, dopo che ha detto quelle cose che abbiamo sentito però di dire, insiste a dire che le cose vanno bene, che era una cosa momentanea, che risolviamo con la legge di stabilità. Ecco, io provo vergogna, provo vergogna che degli italiani che sono evidentemente svenduti a non so che cosa, a un'idea sbagliata, possano avere il coraggio di continuare a dare alle persone delle bugie dopo che ormai è svelato il trucco, è svelato l'inganno. Non puoi continuare a mentire. Non puoi continuare a mentire. E io l'altro giorno ero a Radio Padania. e arriva Bossi. Per me è stata un'emozione, insomma, l'ho sempre abituato a vedere in televisione. Allora, arriva di fianco, cominciamo a parlare dell'euro e Bossi dice eh sì, hai ragione, è vero, bisognerebbe uscire dall'euro, ma non è possibile. Perché ti sparano prima. Ora, io penso che dovranno sparare a tanta gente. Io non ho paura. Tu Matteo hai paura? Avanti. Voi avete paura? Avete paura? E allora? Io adesso lascio la parola ai miei colleghi, ma ricordate, la verità è semplice. La verità è semplice. Niente di irreversibile, non c'è nulla. Basta volere, perché poi dopo sono tutte cose technicalities che si possono gestire, però prima di tutto bisogna capire dove vogliamo andare. Quando avremo capito e sapremo tutti dove vogliamo andare, poi dopo tutto il resto sarà molto, ma molto più facile. grazie a chi ci sta seguendo magari da poco via web sulla padania.net o via radio sulle frequenze di radio padania libera. indipendenza e disobbedienza. Mi sembra che ho capito che i due termini debbano andare di pari passo, altrimenti non ne usciamo. Passiamo il microfono a Roma, perché c'è un professore di Roma che viene in una sala di Milano, piena di leghisti addirittura, a parlare di robe strane alla cravatta verde, che via radio non si vede. e a lui chiedo se secondo lui, oltre al suo intervento, se e quanto questa battaglia può essere solo una battaglia della Lega o può essere invece una battaglia di tanti se non di tutti. Grazie. Comunicazione di servizio, prima di iniziare. Quando abbiamo visto i nostri cari amici Prodi e Monti, state certi che quando ci sarà un processo non potranno invocare le infermità di mente. Questo lo garantisco io. No, perché poi questa gente che... Brava. Perché... Poi volevo dire all'amico Claudio, è vero, pure io, mi sono accorto dei succhi di frutta austriaci, Alpen Orange Saft. Mi inizierò veramente a preoccupare quando comprerò in pescheria i branzini pescati in Lussemburgo, perché ci arriveremo anche lì. Questa è l'Unione Europea, guardate. Allora, fatto questa battuta, io innanzitutto voglio ringraziare Matteo. Grazie perché per essere arrivato a chiamare me, che vengo da Roma, è un fiorentino, perché Alberto è fiorentino. Eh sì, è fiorentino. È europeo, è fiorentino. Vuol dire che ci crede veramente. Vuol dire che ci crede. Allora io lo ringrazio e sono venuto immediatamente, questa mattina sono venuto da Roma e questa sera ritornerò a Roma. E grazie, ho fatto anche molti convegni per la Liga e tutta la volta vado con enorme... Piacere perché trovo delle persone che hanno la capacità di voler capire, perché qui, è proprio qui il problema. Vogliamo capire realmente o ci vogliamo mettere come gli struzzi con la testa sotto la sabbia. Allora, partiamo un pochino da... Perché Claudio è stato bravissimo, mi ha rubato un sacco di... Sì, lui mi frega sempre, parte prima, mi ruba la scena. No, perché ha perfettamente ragione. Quando lui dice queste cose ha perfettamente ragione. Allora, vediamo un po'. Perché io sono un europeista convinto, convintissimo... Non tirate le arance oppure le cose, l'uova, eh? Sì, naturalmente. Io sono un europeista convinto. Certo, ma chi è che non è europeista? Chi è che non vuole una pace in Europa? Chi è che non vuole un progresso? Chi è che non vuole vogliamoci bene? Tutti, assolutamente. A chi non piace muoversi liberamente, accordi, eccetera. Accordi. Poi abbiamo visto che quando ci toccano a noi, oppure siamo assaltati magari da paesi extracomunitari, non siamo più europei, mi sembra, no? Siamo italiani, non siamo buoni a mantenere i confini, eccetera. Vabbè, diciamo che siamo tutti europei, ma non mi riconosco nella maniera più assoluta in questa Europa, perché non era l'Europa che ci è stata venduta. Io avevo capito cose diverse, non so voi. Cioè, quando c'è stata prospettata questa integrazione europea, non era questa. Ci avevano fatto capire altre cose. Allora, siamo andati un pochino a scavare. Perché è avvenuto questo? È avvenuto perché, a un certo punto, da quel disegno di Europa degli anni Ottanta, era giochi senza frontiere l'Europa, perché oltre, poi la sera si spegneva la televisione, stavamo tutti a casa nostra, di più non si andava. Poi, all'improvviso, non so perché, è successo che è caduta l'Unione Sovietica. All'improvviso, boom, è cascata come un castello di carte e sono venuti meno certi equilibri. Il primo equilibrio che è saltato era quel muro di Berlino, quel muro di Berlino che significava una Germania di nuovo unita. Questa Germania unita ha però creato altri problemi, cioè la determinazione di altri equilibri. E che cosa significava di fatto? Significava che in Europa ci dovevamo dare un diverso assetto. Chi è che erano preoccupati? E forse avevano anche, da un punto di vista storico, anche ragioni. I francesi, i francesi se l'erano passata maluccio negli ultimi 50-60 anni prima, no? Scusa, grazie. No, farsi raccogliere le cose da un professore. Scusa. No, è un amico. E che cosa è successo? È successo che i francesi hanno chiesto delle garanzie. Hanno detto, va bene, noi diamo il nulla osta, siamo fra le potenze vincitrici, diamo l'assenso, però vogliamo delle assicurazioni, delle grandi rassicurazioni. Ci dobbiamo unire sempre di più perché di fatto il marco sta alla Germania come la bomba atomica nell'armamento militare francese. Era il simbolo del riscatto. I tedeschi optortocollo hanno detto, va bene, però attenzione, qui gestiamo noi la nuova giostra. Perché? Perché noi scediamo il marco, sai, ci sono gli spagnoli, ci sono i portoghesi, ci sono gli italiani, ci sono i soliti italiani che dicono una cosa e poi dire esattamente contrario, buffoni. E quindi dobbiamo avere delle regole certe. e badate bene, io dico questo per introdurre quello che vi voglio dire dopo. Cioè, noi ci siamo quindi prostrati, noi abbiamo firmato in bianco, perché vedete, quei signori che abbiamo visto prima, non credo che abbiano capito tanto, d'altronde non hanno capito che gran parte del costo della riunificazione tedesca l'abbiamo pagata pure noi, non neanche l'hanno capito, perché l'abbiamo pagata anche noi, ma anche in termini politici abbiamo pagato questo. Anzi, continuiamo a pagare puntualmente ancora oggi in termini politici. Ebbene, ci siamo legati a questo sistema pensando a tutte rosse e fiori. Poi però abbiamo visto che le cose non andavano così. Perché? Perché giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, si sono attivati dei meccanismi automatici, i cosiddetti piloti automatici. E' stata estraniata nella maniera più assoluta, ma totale la politica della gestione. Vedete, l'euro è una scelta politica che è stata. Prendiamoci una moneta comune, così non ci litigheremo più, non ci ammazzeremo più, ci vorremmo bene, facciamo questo grande mercato. hanno preso nella nostra diciamo buona fede questo principio, mentre invece serviva a qualche altra cosa. E l'abbiamo visto adesso. Perché noi abbiamo capito che serviva al servizio dei cittadini, non al servizio di quello che poi si è rivelato essere. E l'abbiamo visto. E quindi cosa è successo? Giorno dopo giorno, mese dopo mese, si sono attivati tramite trattati, tramite regolamenti, tramite le circolari, ci sono eserciti, eserciti fra Bruxelles, Francoforte e Strasburgo e tu me lo puoi tranquillamente confermare, di persone che lavorano intorno a un apparato per cercare di far cambiare il meno possibile ai vari stati quello che stanno facendo. Perché poi questa è la verità e questo è lo scopo. È vero, è vero. Proprio sono scientificamente. Si mettono lì, vediamo un po'. Il modo per far capire il meno possibile a questa gente perché sennò poi lo scoprono e sono dolori. E cosa è avvenuto? Che la cosiddetta politica è stata estragnata dai processi decisionali. Ci si è praticamente affidati a questi meccanismi automatici che andavano avanti da solo, indipendentemente. Lo vedete questi parametri? Che poi scusami, sono dei paracarri, non sono dei parametri perché stanno lì fermi. Ma io sto morendo? No, tu devi stare al 3%, ma sto, non lo vedi che muoio? Questo sta scritto sui trattati, questo sta scritto perché tu hai firmato, io non avrei mai ceduto il mio marco se tu non firmavi dicendo che ti saresti ucciso e immolato per Maastricht. Piuttosto, chi è che ha scritto morire per Maastricht? Ah, bravo. Io ce lo porterei a Maastricht, guarda un po', scusate. Sentite, una battuta. Vogliamo aprire una sottoscrizione per un bel viaggio a Natale, solo andata naturalmente perché il biglietto di ritorno non è necessario, di Monti ad Atene per trascorrere il Capodanno? Gli facciamo fare. Gli regaliamo, guarda, Claudio io, Alberto pure subito. No, è chiaro. Va a fare la passeggiatina nel centro, nel centro. Non c'è bisogno di scrivergli dietro sono Monti perché lo riconosco. Facciamo delle telefonatine prima a degli amici, non vi preoccupate. Allora, cosa succede? Che di fatto quando io dico la politica è stata estraniata perché guardate al trattato di Mastri che quando Guarino, anzi mi permetto di portare i saluti del professor Guarino perché gli ho detto vado e mi ha detto e ringraziali perché sono stati gli unici che mi hanno dato retta quando io ho sostenuto e ha ragione che Fiscal Compact è illegittimo e gli unici che mi hanno dato retta sono stati quelli della Lega mentre gli altri non hanno aperto neanche una bocca ma la cosa strana lo sapete qual è? Che dopo aver individuato l'illegittimità del Fiscal Compact qui in Italia zero i tedeschi sulla base dell'osservazione hanno iniziato a fare distinguo guarda caso e beh sempre così nemo profeta in patria allora benissimo perché io dico questo? proprio perché nell'originario trattato di Mastri qui è il golpe perché si parla di golpe perché l'ha tirato fuori Guarino e cercherò di dirvelo in una maniera semplicissima perché io non sono un giurista però credo di averlo capito perché me l'ha fatto ripetere talmente tante volte che alla fine l'ho capito cosa è successo? è successo che nell'originario impianto di Mastri che era previsto che gli obiettivi di crescita dei vari paesi fossero perseguiti con un certo margine di autonomia delle politiche economiche cioè questi sono i criteri di convergenza vi lasciamo a voi un certo margine di manovra per poter perseguire questi benedetti paracarri ho detto prima parametri successivamente in maniera molto subdola invece i famosi regolamenti quelli che fanno quei topini che stanno a Bruxelles che stanno lì che si vanno a girare nelle varie intanto paghiamo noi non c'è problema hanno tirato fuori un regolamento esattamente nel 1466 del 97 quindi prima dei cambi revocabili in quale praticamente la Commissione Europea ha avvocato a sé questi diritti estraneando completamente i vari governi cioè la politica da qualsiasi potere decisionale come per dire voi non siete buoni a fare niente ci pensiamo noi ci pensiamo noi ci pensiamo noi d'accordo l'ho detto bene vabbè ragazzi ho studiato le lingue poi ci pensiamo noi bravo però però cosa è successo nel frattempo che siamo noi stati estraniati la democrazia è stata estraniata perché io ribadisco il concetto di poter sbagliare di poter sbagliare con la mia testa non con quella degli altri perché ci siamo resi conto che alla fine noi stiamo sbagliando con la testa degli altri scusate se la chiamo testa quella degli altri quando ci vuole ci vuole scusate se no ve lo dico in romano lo capite però bravo ecco bravo ci siamo capiti è una parola internazionale ecco allora noi ribadiamo questo è stata estraniata nella maniera più assoluta la democrazia dal processo europeo perché nel momento in cui si dice guarda che tu non puoi più intervenire in nessun modo e in nessuna maniera nei processi decisionali quando c'è un pupazzo che scusatemi se lo dico ma ne prendo ogni responsabilità un letta è un pupazzo va bene ecco scusate ecco lo dico il quale non scordatevi adesso che se la fa sotto se la fa sotto e perché vi ricordo che il giorno 29 aprile il giorno in cui ha avuto la fiducia del senato non si è neanche cambiato la cravatta andate a vedere e si è precipitata a fare l'inchina a Berlino immediatamente per dire cara signora non vi preoccupate non succede nulla ma noi ci siamo abituati c'è Matteo Renzi scusa il quale ancora non è niente non è niente già è andata a Berlino a fare l'inchino già è andata a dire cara signora se io un domani divento premier non perché sono bravo perché nel mio partito sono tutti cretini e quindi basta uno che ecco guardate che non cambia assolutamente nulla non si preoccupi io i compitini li faccio lo stesso non vi preoccupate meno male che ce n'è un altro di Matteo no? Allora allora dico io dico questo cari amici riprendiamoci le chiavi di casa qui ci sono state tolte le chiavi di casa questo è il discorso e guardate quando si dice perché la prima cosa è questa ah ritornare alla lira vuol dire tutte le belle cose che ha detto prima Claudio la prima cosa è riappropriarsi nella maniera più assoluta della politica economica tarata esattamente al nostro territorio e noi sappiamo che la nostra il nostro territorio ha delle caratteristiche molto diverse da quella degli altri io me la sono presa non voglio fare il nome perché sennò è brutto lo sapete con un noto giornalista corrispondente di stampa estera non lo diciamo abbiamo mangiato una bellissima cotoletta anche buona questo signore diceva i soliti italiani che fanno svalutazione competitiva fercogna ma io ho detto ma guarda che la svalutazione la state facendo voi adesso nei nostri confronti è chiaro no? come ha detto Claudio scusate il marco starebbe almeno al 30% e allora che cosa succederebbe perché veniamo sul territorio succederebbe che se noi tornassimo alla lira al fiorino al ducato lo vogliamo chiamare io lo chiamo bagliocchi perché venendo da Roma chiamiamoli bagliocchi quando andremo a comprare latte costerà sempre 1,65 ma non lo chiameremo euro lo chiameremo fiorino ducato solo che sugli scaffali troveremo non più il latte fatto nella Baviera ma il latte padano perché per un motivo molto semplice perché potremmo continuare a pagare un fiorino e 65 una lira e 65 quello che volete voi mentre invece il tedesco comprerà anche quello padano perché gli costerà un euro o quello che sarà se magari loro tornano al marco quanto costerà un euro e 30 un euro e 25 esatto mentre invece quello della Baviera noi lo pagheremo un fiorino e 90 va da sé che noi compreremo quello nostro che fa la tranche più buono fra l'altro scusate e così su tutto su tutto ve lo ricordate quando noi riuscimmo negli anni 80 a produrre la tema ragazzi non si vedeva una Mercedes in giro non se ne vedeva una non se ne vedeva questo è il discorso a noi non ci manca nulla nella maniera più assoluta questo è il quarto d'ora che è scattato e che devo finire allora finisco no è giusto poi i phone c'ha ragione esatto esatto i calci li riserviamo ai signori esatto e poi vi dico questo si parla tanto rivedere i trattati no? rivediamoli chi ci mandiamo? Monti e Letta a rivedere i trattati così finiscono scusate così finiscono e qui lo dico io di farci un sedere così visto che non l'ha detto lui lo dico io? eh Laura eh sì perché poi succede questo scusate eh va bene ma è scaduto per loro è scaduto per loro è certo è scaduto allora dico non abbiamo paura riprendiamoci le benedette chiavi di casa e finiamo di piangerci addosso la casa brucia brucia apposta sono venuto da Roma io perché non sto a guardare in faccia chi porta i secchi dell'acqua l'importante è spegnere l'incendio grazie 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 a professor Rinaldi ultimamente devo dire che vengono venite invitati un pochino più spesso in televisione però penso che quando il professor Bagnai partì partì in un deserto immagino guardato dai colleghi come un essere strano se non un collaborazionista il nemico adesso abbiamo capito chi era il nemico ecco però ripeto adesso lo ascolto volentieri e vi consiglio il libro all'uscita non perché abbia bisogno lui di vendere due coppie ma perché più informazioni abbiamo noi a disposizione più smontiamo poveretti agli altri rimane non hanno argomenti e non si può è così è ormai e ma facciamo la fine l'argentina e ma la svalutazione tre barzellette che leggendo cinque pagine del libro si smontano però mi vergogno non solo per la classe politica che secondo me non era ignorante ma era venduta già ai tempi ma anche per la classe ma anche e soprattutto mi permetto di dire per alcune altre caste per quei professoroni universitari per quei giornalisti per quei commentatori economici che o non avevano capito e se non avevano capito dovrebbero andare a fare un altro lavoro o se avevano capito e stavano zitti peggio ancora dovrebbero essere assolutamente inseguiti quindi io sono contento che non tutti nelle università e sui blog dormissero e quindi intanto mentre andiamo a verificare i virus tedeschi nel personal computer del professor Bagnai c'è un hackeraggio c'è un hackeraggio del nemico però ripeto io non penso io non penso che a certi livelli ci sia ignoranza io penso che a certi livelli ci sia compravendita di uomini di governo molto più semplicemente e quindi e questo mi sa che abbiamo visto microfono Alberto Bagnai e gli chiedo anche come mia curiosità perché ha cominciato io immagino che abbia incontrato tanti politici chi gliel'ha fatto fare cosa gli è successo quella mattina in cui ha detto ora cominciamo la crociata una crociata scomoda impegnativa penso grazie grazie Matteo grazie a tutti voi avete di fronte a te a voi delle persone molto diverse Antonio è uno specialista nell'arte di estrarre l'applauso da chi la pensa come lui e io invece ritengo che in questa fase storica sia molto importante portare argomenti a chi non la pensa come noi e credo che per questo sia soprattutto per un partito come il vostro che nei mezzi di informazione viene regolarmente messo in caricatura con caschi vichinghi insomma io mi aspettavo di trovarmi di fronte dei celti e invece mi trovo di fronte degli italiani credo che sia particolarmente importante adottare dei toni che consentano di rendere il messaggio accessibile e che consentano e che non consentano non toccate non toccate il mio computer ci penso io da qua no ecco buoni fermi c'è non c'è c'è non c'è ci penso io e e che non consentano di distorcere il messaggio la risposta alla domanda di Matteo perché ho cominciato credo che sia perfettamente identica a quella che potrebbe dare Claudio io a dire il vero nel 1997 avevo scritto un piccolo lavoro nel quale argomentavo che i costi dell'Unione Europea non sarebbero stati così grandi come ci venivano proposti ma semplicemente perché nella letteratura scientifica questo già era stato dimostrato nel 92 cioè quando è stato firmato il trattato di Maastricht immediatamente gli economisti lo hanno valutato e hanno capito che era una fregatura lo dico nulla di quello che trovate nel mio libro in termini di economia è particolarmente originale il mio libro finisce dimostrandovi che nel 1957 per un economista che fosse un economista infatti avrebbe poi preso il Nobel nel 77 era assolutamente chiaro che lo sviluppo armonico pacifico del nostro continente necessitava di cambi flessibili prima ancora che ci fosse la moneta unica vi ricordo che nel 57 si era in un sistema di cambi fissi mondiali ma un economista britannico aveva già capito che l'Europa per la diversità fra le sue economie avrebbe avuto bisogno di maggiore flessibilità e i motivi sono quelli che ha spiegato molto bene Claudio e che ha spiegato molto bene Antonio quindi dal punto di vista economico non c'è nulla di nuovo però nel 2010 quando abbiamo cominciato a vedere io Claudio anche Antonio che aveva scritto anche un libro come veniva gestita la crisi della Grecia è scattato qualche cosa in particolare abbiamo capito che quello che era in atto era assimilabile in qualche modo a una sorta di aggressione di aggressione economico-politica nei riguardi dei paesi del sud e io scrissi un articolo che si chiamava i salvataggi che non ci salveranno quando Monti venne nominato e lo trovate ancora nel mio blog alla data del 16 novembre scusatemi l'osso buco mi rende un pochino le sinapsi un po' unte no non ho bevuto interviene sull'ordine dei lavori l'onorevole Rinaldi grazie poi dopo segnatele queste che poi me le dice alla fine allora scrissi questo articolo per dire che Monti avrebbe rovinato l'Italia lo mandai alla voce punto info con cui ogni tanto collaboravo e loro mi dissero che a causa della crisi stavano arrivando tanti articoli e quindi purtroppissimo non avrebbero pubblicato il mio io ci pensai una settimana e poi dissi sapete che c'è io volevo solo lasciare una testimonianza allora adesso apro un blog e pubblico questo articolo due anni dopo io sono arrivato secondo al blog fest di Rimini dopo un'altra start up che si chiama il sole 24 ore che ha credo dietro una organizzazione con pochissimi capitali che credo si chiami confindustria sì ecco io secondo e la voce punto info sesto perché la menzogna non paga o perlomeno la non verità non paga quindi sono vicino a Matteo quando dice che è finito il momento delle mediazioni credo che sia così ciò nonostante il fatto che sia finito il momento delle mediazioni e il fatto che come io ho anticipato a tanti politici che mi sono venuti a sentire questa storiella del sì però dobbiamo dare il messaggio propositivo sì però dobbiamo dare un ultimatum dire cara Germania tu adesso devi fare così perché se no poi noi ti minacciamo e allora dopo usciamo e poi è una grande scemenza una scemenza quando è detta dagli insider che non nomino è una scemenzissima quando è detta dagli outsider che altresì non nomino ma se voi andate nel mio blog e digitate nella funzione cerca la tabellina dello zero troverete un post nel quale io allegramente dileggio quei politici che essendo fuori dal Parlamento e quindi contando lo 0% non hanno minimamente avuto diciamo il coraggio di assumere una posizione precisa perché capisco che se uno è dentro dice beh ma io posso perdere l'80% dei voti quindi i miei voti si moltiplicano per 0,8 certo è brutto ma se invece tu per il 20% insomma ma se invece tu hai 0 puoi solo guadagnare dal fatto di dire la verità e nessuno ha avuto questo coraggio ciò nonostante volevo fare un paio di precisazioni la prima precisazione è che non amo particolarmente parlare di processi perché non credo che sia il caso perché temo che la situazione nella quale viviamo è una situazione che oggettivamente crea molta violenza e infatti la gente muore quindi dobbiamo essere tutti molto prudenti nell'esprimerci ma questo non è ovviamente una critica questa è una mia opinione credo che più che la Norimberga noi assisteremo a un 8 settembre il 9 settembre nessuno sarà stato eurista e vi ricordo e vi ricordo che noi abbiamo un'Italia da ricostruire per la seconda volta e vi ricordo che la prima volta l'abbiamo ricostruita fatalmente anche coi fascisti perché se erano la maggioranza cosa è successo da un giorno all'altro quindi questa Italia la dovremmo ricostruire con gli euristi rassegnatevi fa schifo anche a me ma è un dato di fatto da questo non si esce per cui come dire se noi facessimo un vero processo se io dovessi e certe volte avrei voluto farlo massacrare di fronte a me l'ottuso di turno che continuava a dirmi che noi ci meritavamo quello che ci stava succedendo eccetera se io avessi avuto licenza di uccidere come 007 forse avremmo risolto la crisi economica ma saremmo una profondissima crisi demografica in Italia saremmo rimasti io e lui e anche se qualche politico di sinistra ci desse il permesso di accoppiarci la nostra unione sarebbe sterile quindi bisogna capirla questa cosa quindi per favore poi Matteo che mi sta simpaticissimo anche perché l'ho incontrato prima volta in televisione in una trasmissione nella quale io difendendo i diritti civili spiegavo però una gentile giornalista de sinistra che anche le nozze gay non si possono fare quei fichi secchi cioè che il suo partito ci stava svendendo la nostra economia i nostri diritti economici i nostri diritti sociali in cambio di diritti civili puramente cosmetici come la possibilità di accoppiarsi con essere viventi a tre, quattro, sette, otto zampe in cambio però di essere disoccupati ecco questo è allora io sono per il matrimonio fra due gay che hanno un lavoro quindi sono su una terza posizione questo magari a Matteo non piacerà e adesso si preoccuperà anche per avermi accompagnato in macchina qui però non gli ho messo le mani addosso anche perché diciamo così lei è una guida molto sportiva molto romana e mi sono divertito ad apprezzare come si può applicare alla diciamo topografia milanese una guida un po' creativa un'altra cosa che preferirei non sentir dire anche se è vera anche se è vera però preferirei non sentirla dire anche se strappa l'applauso però preferirei non sentirla dire anche se sono d'accordo preferirei non sentir dire che Letta è un pupazzo perché allora intanto io sono fiorentino e lui è pisano quindi a me basta questo se proprio vogliamo ma il punto ma il punto è un pochino più sottile vedete il problema non sono le persone il problema sono le istituzioni cioè noi da 30 anni con il vuoto contrario dei comunisti dichiarazione di Napolitano che adesso fa il difensore di questo regime con l'astenzione molto opportunistica dei socialisti relazione di voto di Cicchitto che sta ancora in giro con la dichiarazione di voto positiva dei democristiani Filippo Maria Pandolfi che incontrai al convegno nel quale appunto dissi che loro sarebbe stata una sola 20 anni dopo siamo entrati in un percorso il cui scopo era sostanzialmente esautorare la politica perché per tanti motivi secondo me non ha del tutto torto né Matteo né Antonio Claudio non è entrato in argomento nel dire che c'è stata una cattura dei politici italiani da parte di interessi esteri poi ovviamente ognuno usa il linguaggio che vuole e va bene così sono d'accordo però il discorso è un pochino più ampio ed è un discorso culturale ci hanno convinto che l'Italia avesse bisogno di essere moralizzata perché aveva una classe politica particolarmente corrotta che aveva bisogno di regole esterne noi ci abbiamo creduto forse in parte era vero forse in parte no ma adesso dobbiamo registrare il fallimento di questo sistema le regole esterne non ci hanno moralizzato anzi sta andando sempre peggio e in più va male anche l'economia quindi come dire il problema io mi indignerei molto di più civilmente e sempre nell'ambito di un processo democratico per le parole di Draghi che prima delle elezioni ci dice non importa qual è il risultato tanto avete il pilota automatico piuttosto che per piuttosto che per il fatto che Letta a bordo di questo aereo con il pilota automatico atterri dove questo aereo porta che è Berlino questa è una conseguenza ci siamo? cioè a me piace risalire alle cause le conseguenze sono più visibili insomma se tu hai la varicella ti gratti ovviamente le bolle e non ti gratti il virus perché non lo vedi in questo caso Letta tira fuori l'applauso ma il problema è che sono le istituzioni che vanno capite e va capito perché ce le siamo date e perché ce le siamo fatte dare ultima cosa la verità è diciamo magari non è una le menzogne sono sicuramente molte di più va detto che contro il fiscal compact ha votato anche l'IDV che è un altro partito dello 0% adesso che è venuto prima a dire che se deve fare uscite prendete posizione voi siete il partito che ha di più lottato contro la corruzione dissi lo tempore quindi carissimi nessuno potrà accusarvi di restare di volere la lira per ritornare all'Italia corrotta voi avete fatto della lotta contro contro un certo tipo di regime nella vostra bandiera ma sì moce pensiamo va bene nel frattempo perdete le elezioni poi tornate infatti hanno perso le elezioni e sono tornati in questo Matteo sicuramente è stato più intelligente perché a parità di non aver voluto il fiscal compact e a parità di messaggi di un certo tipo dati all'elettorato messaggi che in parte condivido e adesso vi dico quali sono perlomeno ha preso posizione dopodiché è chiaro che sul no non si può costruire una piattaforma politica e soprattutto sul no non si rilancia un paese ci sono tanti problemi e quindi bisogna un attimo ragionarci insieme allora io a questo punto avrò bisogno io di qualche calcio vorrei saltare diciamo intanto vorrei farvi capire una cosa che mi fa molto sorridere perché che significa federalismo allora ogni tanto mi scrive qualcuno professore io non sono d'accordo con lei perché io sono un federalist europeo e quindi dovremmo fare un'Europa federale dove c'è un grande stato i trasferimenti il budget quindi in Europa il federalismo significa che un bavarese deve pagare per un calabrese perché siccome noi adesso siamo sdraiati ci vorrebbe una solidarietà europea che trasferisse soldi dal nord al sud questo significa federalismo e come farlo ma in tanti modi via euro bond con una politica più inflazionistica sapete se c'è una politica più inflazionistica chi ha prestato i soldi cioè il nord ne rivede di meno indietro perché praticamente anche se rivede gli stessi mille euro sono mille euro che costano di meno quindi capite in che senso l'inflazione porta uno del nord a pagare per il sud oppure via trasferimenti cioè c'è un bel bilancione federale accentratissimo che prende soldi da una parte e li ridà dall'altra a me sembra invece che in Italia il federalismo sia quella cosa per cui un bergamasco vuole pagare le tasse a Bergamo per finanziare spese fatte a Bergamo e allora dopodiché dopodiché io vi devo dire la verità non so quale di queste due cose sia giusta se il fra virgolette egoismo del bergamasco o il fra virgolette sogno visione del federalista europeo però una cosa la so di sicuro ed è che non discuto su chi ha ragione ma la prima proposta cioè far pagare un bavarese per un calabrese sicuramente non è possibile e non è sostenibile politicamente perché i bavaresi già non vogliono pagare per i fratelli sassoni della Germania Est che hanno massacrato con l'annessione l'Ancelus come lo chiama Vladimiro Giacchè in un libro che vi consiglio di comprare edito dalla stessa casa di Riccio del mio peraltro che è molto bello perché ci fa capire in che modo la moneta può essere uno strumento di conquista uno strumento di conquista in quel caso confessata pianificata deliberata contro la quale si sono opposte delle voci dell'Est che sono state messe a tacere e adesso ci dicono che la Germania è brava perché ha realizzato l'unione in vent'anni e noi non ci siamo riusciti in 150 ma nessuno vi dice che una famiglia dell'Est ancora ha un reddito che in media è il 53% di una famiglia dell'Ovest questo tipo di unità ce l'abbiamo anche in Italia la sappiamo fare anche noi allora ragioniamo un attimo su voi là regia ecco molte vostre battaglie condivisibili e condivise allora io credo che di avervi sentito qualche volta dire che bisogna razionalizzare la pubblica amministrazione è giusto e poi vi faccio anche degli esempi credo che sia giusto pretendere maggiore equità fiscale al di là che la si realizzi col federalismo in altri modi sicuramente è giusto lottare contro la corruzione tutti d'accordo su questo ma il telecomando attenti alle trappole perché su questi principi qua siamo tutti d'accordo però poi si rischia di declinarli in un modo anche attraverso il contrasto a questo modello di Europa che espone a delle trappole del tipo privato bello pubblico brutto attenti questa è una trappola secondo me tipo stato nemico e anche questa secondo me è una trappola e qui non lo dite avessi detto Letta maggiordomo tutti ad applaudire invece no pensiamo un attimo a questo tipo sud nemico è ogni nord ha un sud io per esempio vado spesso in Normandia e prendo molto in giro i miei colleghi normanni dicendo insomma voi arrivate sempre in ritardo voi norvegesi del sud perché è così allora diciamo che questi sono i messaggi che il potere ha usato a convincere ha usato per convincervi a entrare nell'euro perché con questi messaggi qua il potere vi ha convinto che l'Italia avesse bisogno di regole moralizzatrici che riducessero lo Stato il famoso 3% del bilancio pubblico che riducessero la corruzione le regole europee allora stiamoci un attimo attenti perché c'è del vero in questo ma bisogna stare attenti a come lo si usa il vincolo esterno purificatore che ci avrebbe purificato e non ci ha tanto purificato vedete in questo momento in Europa si sta applicando il sano principio del divide e timpera cioè alla grande finanza internazionale serve che le piccole e medie imprese vedano lo Stato come un nemico gli serve perché questo favorisce la grande impresa e il progetto europeo è costruito per favorire la grande impresa questo i giuristi lo hanno visto chiaramente fin dalla fine degli anni Ottanta e nel mio libro è spiegato ma in Italia si basa su un modello diverso quello della piccola e media impresa e comunque se mi applaudite sono contento soprattutto se riesco a farmi applaudire con parole un po' complicate per favorire la grande impresa è la penetrazione dei capitali esteri ma non è un caso che da quando noi siamo entrati nel binario europeo non c'è più un supermercato che non sia francese scusate ma come si fa a stupirsi che ci sia il succo di frutta certo c'è il problema dell'allineamento dei prezzi c'è il problema che noi abbiamo ceduto tutta la grande distribuzione all'estero quando? dopo la crisi del 92 e adesso stiamo cedendo altri pezzi d'Italia quando? dopo la crisi attuale e cosa c'è adesso? l'euro che ci doveva difendere dalla crisi nel discorso qualcosa non torna l'euro non ci ha difeso un altro divide timpera i governi centralizzatori e statalisti allora io io credo nel valore dello Stato ma non sono statalista io credo anche nel valore dell'iniziativa privata che possono convivere queste due cose una convivenza difficile ma l'Europa è profondamente statalista e accentatrice che cosa vogliono? vogliono che i vari nord del mondo che in qualche caso come per esempio in Inghilterra sono il sud o anche in Germania il sud e il nord la Baviera è più ricca delle altre regioni vedano i sud come nemici perché in questo modo li mettono uno contro l'altro riducono le loro autonemie e accentrano presso di sé più poteri perché il più Europa all'avere un enorme bilancio europeo gestito non si sa da chi forse da questa commissione di non eletti no? ecco è un progetto centralizzatore statalista ecco poi un'altra cosa un'altra diciamo simpatica applicazione del divide ed impera ora io diciamo così mai mi sarei immaginato con tutto che vabbè Matteo quando lo vedevo in televisione mi stava simpatico ma questo è un fatto mio mai mi sarei immaginato di venire qua nella fossa dei leoni leghisti io ho cominciato a scrivere sul manifesto rivolgendomi alla sinistra sperando che il PD si svegliasse lo ha svegliato un pochino l'altra sera il delfino lì l'ha svegliato Matteo ma si è riaddormettato subito sono due anni che dico al PD con queste regole europee una sinistra si svuota di significato e il problema è l'euro allora un po' Fassina lo ascolta e lo dice gli altri niente l'altro Matteo a Renzi ha un consigliere che lo trasfermerà presto da delfino del PD a tonno nella tonnara dell'euro dove verrà massacrato dagli elettori e io non piangerò anche se vorrei io vorrei votare PD vorrei se l'ho detto a Sandro Gozzi in televisione posso dirlo anche a voi qui fatti miei tanto un voto in più voto in meno a voi che cambia tanto non lo do a nessuno perché in questo momento nessuno mi rappresenta in Italia che gioco sta facendo il PD un gioco pericolosissimo perché pur di difendere l'euro che lui ci ha dato perché ne ha rivendicato la paternità Bersani diceva noi siamo quelli dell'euro e io sul mio blog dicevo questo è morto politicamente si intende perché come vi dicevo prima non auspico nessun processo politico auspico un processo democratico per cui chi ha sbagliato vada a casa senza neanche che uno si interrochi sul perché ha sbagliato se è stato pagato per farlo o se l'ha fatto in buona fede la categoria della buona fede interessa lui che non ha bisogno di noi per sapere se noi siamo in buona fede e gli storici punto a un economista non deve interessare può interessare un magistrato ma tanto su questo ci sarà mai un processo scordatevelo anche se nel codice pinale esistono dei delitti contro gli interessi economici del paese ma la magistratura indipendente rinuncerà indipendentemente a prenderne atto e di questo siamo assolutamente certi la cosa disastrosa lo dico avendo diciamo così in famiglia anche una toga rossa quindi conosco l'argomento toga rossa camicia verde sono una famiglia assolutamente trasversale come quella che Flaiano descrive padre monarchico madre cattolica figlio comunista eccetera eccetera pronti questa è la nostra flessibilità è la flessibilità la flessibilità del nostro modello di impresa è la flessibilità del nostro modello di famiglia il PD in questo momento dice l'euro è buono perché ve l'ho dato io che sono buono perché io sono di sinistra quindi sono progressista quindi sono buono quindi sono colto quindi amo i bianchi gialli rossi neri mi dimentico ogni tanto di amare gli italiani ma questa è una piccola dimenticanza prendetevi prendetevi l'euro Matteo tu mi stai cronometrando perché tu lo sai che io posso andare vado allora non mi preoccupo non mi preoccupo allora gli elettori vanno dal PD gli dicono scusa PD c'è qualcosa che non va e il PD continua come l'altra sera abbiamo visto una plastica rappresentazione nel dialogo fra l'onorevole Cooper e l'onorevole Salvini ma no va tutto bene va tutto bene non ti preoccupare scusa PD guarda che la gente si sta ammazzando no ma va bene l'euro è santo l'euro è buono guarda PD hai preso una legnata alle elezioni beh effettivamente un problema c'è la colpa è della Germania che fa troppa austerità l'euro è buono ma la colpa è della Merkel questa è la linea di quelli che si dicono europeisti mettere gli italiani contro la Germania attribuendole la colpa di un fallimento che è il fallimento di due generazioni di politici italiani di sinistra e di destra questo è l'europeismo e non dire che l'euro progetto ritenuto economicamente irrazionale dagli economisti da 40 da 50 anni va rimosso questo è l'europeismo in Italia capito in che paese viviamo ecco e è anche colpa nostra oggettivamente allora attenzione attenzione a questi falsi messaggi attenzione a chi ci vuole dividere per comandarci non ci cascate questa ve la stampo e ve la mando a casa ok non ci cascate il ripristolo della flessibilità è uno strumento di solidarietà deve essere proposto è vissuto come uno strumento di solidarietà fra i popoli europei perché l'euro è un errore tecnico imposto dalla politica secondo le logiche che ci ha detto Antonio secondo le logiche che ci ha ricordato Matteo e Claudio ma lo suo smantellamento deve essere un gesto della politica non è un fatto tecnico deve essere un gesto politico gestito con un grande senso di solidarietà e di collaborazione perché ci saranno dei costi e questi costi vanno divisi vanno divisi divisi fra paesi e vanno divisi fra classi sociali e bisogna capire quali sono e bisogna capire che si sostengono dei costi per uscire da un vicolo cieco e quindi per poi andare avanti allora questo vabbè questo già ve l'ho detto prima che è una roba vecchia vi ricordo che io ma prima in realtà Claudio poi io poi Antonio abbiamo aderito a questo manifesto di solidarietà europea un manifesto assolutamente trasversale che comprende economisti marxisti ex presidenti di confindustria vice governatori di banche centrali ex commissari europei di tutto che ritengono che una uscita solidale uno smantellamento solidale dell'euro possa passare e debba passare principalmente per l'abbandono della moneta unica da parte della Germania ci hanno preso per pazzi all'inizio ci hanno ovviamente ampiamente boicottato sui media italiani senza tener presente un trascurabilissimo dettaglio che la stessa cosa era stata detta nel 2010 da uno dei passaggi come dicono a Roma Joseph Stiglitz il quale trovandosi a passare per Soccolmo ha ritirato un Nobel per l'economia e poi se ne è tornato a insegnare Stiglitz Stiglitz nel 2010 aveva detto o la Germania esce dall'euro o i paesi del sud saranno stritolati dall'austerità adesso io purtroppo non ho il computer sotto perché vi vorrei far vedere che è esattamente successo questo ma voi lo vedete basta aprire il giornale non c'è bisogno di vedere i dati quindi questa proposta riteniamo che sia una proposta sulla quale forse anche un partito politico italiano dovrebbe cominciare a fare una riflessione perché è una proposta costruttiva che ha dietro un bagaglio di come dire un retroterra scientifico e che comincia ad essere rappresentata siamo ormai una quindicina ventina di economisti che provengono da una decina di paesi europei dentro e fuori l'eurozona fateci un pensiero informazioni per informazioni sul mio sito allora ideologia e realtà rapidamente due o tre ore prima quando volete che io smetta uscite dalla sala vado ideologia e realtà cosa ci dice l'ideologia diciamo oggi voglio essere generoso vi voglio spiegare il capitalismo che a me piace così poi capiamo perché siamo in crisi perché l'euro è un pezzo di questa storia però quando ne saremo usciti dovremo anche occuparci di altri pezzi di questa storia perché l'ideologia ci dice fondamentalmente che dobbiamo essere sempre più produttivi e vabbè detto così suona bene chi vuole essere improduttivo come dobbiamo essere non dobbiamo essere corrotti certo chi vuole essere corrotto come dire vuoi essere cornuto no magari no insomma preferisco di no o comunque non saperlo ecco comunque scusa ecco scusa amore non volevo ecco e poi ci dice anche che dobbiamo sempre limitare l'intervento pubblico perché lo stato insomma fa sempre tanti danni e vabbè vi faccio vedere una cosa come va il mondo adesso alcuni di voi saranno allergici ai dati è sicuro perché altrimenti non saremmo nell'euro alcuni di voi saranno allergici ai grafici e va bene così però si capisce che qui c'è una cosa che va molto in fretta è una cosa che sta ferma perfetto si capisce che qui era successo già era andata e questo è benissimo la cosa che per due volte nella storia recente dell'umanità è andata molto in fretta è la produttività ed è successo prima del 29 e prima di questa crisi la cosa che per due volte e quindi ah che figata erano più produttivi fico dai il ganso si produce tanto che bello la cosa che per due volte nella storia dell'umanità è rimasta un pochino indietro è il potere d'acquisto dei lavoratori i salari reali dai figata abbiamo compresso il costo del lavoro bello siamo più competitivi bello ma allora perché dopo c'è la crisi vi faccio vedere un'altra cosa questo qua lasciate perdere il grafico verde che riguarda persone con il colore della pelle diverso dal nostro cioè economie emergenti poi insomma adesso io anche essendo un fiorentino romano forse qua non sono nel vostro gruppo etnico ma guardate solo la linea rossa per due volte quando la produttività è andata crescendo è andato crescendo anche il debito in rosso prima qui poi è risceso dopo la seconda guerra mondiale poi qui è strano? domandina secondo me non è strano e perché non è strano? vedi la realtà ci dice che le crisi epocali 29-2008 seguono il periodo in cui la produttività aumenta a stecca perché ma negli anni immaginate la Ford T la patena di montaggio poi immaginate il computer negli anni 80 i salari sono stati contenuti e guarda un po' lo Stato ha ceduto il passo al mercato perché è indubbio che negli ultimi anni lo Stato abbia ceduto il passo al mercato nel senso che liberalizzazione dei mercati capitali contro riforma bancaria per cui si è introdotto il modello di banca universale per cui tutte le banche possono fare tutto regole di pareggio del bilancio per cui 3% Stato fermati dove vai stai buono non spendere quindi è indubbio che questo è successo però che poi ci sia una crisi non è strano perché il capitalismo funziona purtroppissimo in questo modo qua il capitalismo funziona se qualcuno compra e se qui c'è un imprenditore uno c'è che lo conosco non ve lo indico perché non sia mai lui vuole mantenere l'incognito se c'è un imprenditore lo sa che se lui produce le cose per darsele sui denti spende solo tanto di dentista ma non guadagna nulla deve produrre le cose per venderle allora c'è un problema fondamentale che qua va capito che ci serve anche a capire perché la Germania se mi permettete un piccolo francesismo è riuscita a fotterci il verbo è francese ovviamente se si produce molto ma dall'altra parte diciamo si guadagna poco perché si comprimono i salari ci sono tre possibilità che o finanzi l'acquisto dei beni con debito pubblico cioè la famosa spesa pubblica improduttiva ci deve mettere una pezza e questo è successo in Italia negli anni 80 o finanzi con debito privato e questo è successo in Italia negli ultimi anni perché abbiamo cominciato a vedere da quando siamo nell'euro questa meravigliosa cosa del compra in televisore oggi pagalo fra sei mesi con 47 rate quello è fare un debito e fare un debito privato è vivere effettivamente al di sopra dei propri mezzi quando è il privato che lo fa quando è lo Stato dipende perché lo Stato comunque ha una capacità di gestire le proprie passività che è diversa da quella del privato e perché è successo con l'euro perché l'euro ha facilitato la circolazione dei capitali noi eravamo risparmiatori ma ci siamo trovati a disporre di capitali a buon mercato perché l'euro permette alla moneta di circolare attraverso l'Europa e chi vuole far comprare i propri beni semplicemente ha molta più facilità di prestarla a quei paesi che essendo rimasti indietro hanno bisogno di come dire elevare il proprio standard di vita e questo è successo ecco perché siamo passati dalla lancia tema alle Audi e quindi la terza possibilità è quella di campare col debito altrui come fa la Germania dal 2000 avanti Cristo e lo farà sempre perché questa è la sua vocazione ha detto torniamo alla lira è un nemico la rigidità del cambio vedete noi riflettiamo sempre sul fatto che altera la competitività e questo nessuno l'ha spiegato meglio di Claudio e di Antonio io voglio aggiungere un altro pezzo facilita l'indebitamento perché quando dicono che figata il tasso di interesse è diminuito questo significa solo che per noi del sud prendere debito accollarci dei debiti costava meno di quanto sarebbe dovuto costare cioè il parallelo di avere una moneta troppo forte e che hai un tasso di interesse troppo debole e quindi ti indebiti molto più facilmente e i beni che compri sono i beni degli altri perché la tua moneta è troppo forte e così il cerchio si chiude abbiamo la quadratura del cerchio quindi vedete che bella cosa in tre persone siamo riusciti a farvi vedere tutto il giro allora alla base però c'è un sistema che è squilibrato nell'economia reale cioè c'è un sistema che è squilibrato perché cresce la produttività ma i salari non gli vanno dietro allora ragioniamo su un po' di queste cosette io me ne sono messe alcune poi insomma a un certo punto mi fermerò e se qualche curiosità vi rimane me la dite voi fatemi vedere quanto mi sono allargato io mi espando molto prendo dieci minuti e poi mi fermo ho chiesto 40 più o meno allora lo Stato è sempre un nemico il debito è frutto della corruzione il debito pubblico ha fatto comodo a qualcuno perché scusate cerchiamo di capirci in un paese chi comanda chi è ricco e potente o chi è povero magari onesto e debole secondo me comanda chi è ricco e potente ci vogliamo chiedere perché nonostante tutti i governi si siano sempre lamentati ah il debito pubblico il debito pubblico questo debito pubblico cresceva ma forse avrà fatto comodo a qualcuno oppure dobbiamo pensare che i nostri politici corrotti quanto vi pare Roma ladrona sono d'accordo con voi anche a me in Roma non piace tantissimo anche se ci sono delle persone meravigliose però io preferisco vivere in città più piccole questi sono fatti miei non vi interessano ma mica sono arrivati da Plutone a fare gli interessi dei plutoniani erano italiani che facevano interesse di qualche italiano mentre il debito pubblico italiano cresceva allora di chi facevano gli interessi beh ve l'ho detto di un'impresa una classe imprenditoriale secondo me non piccola e media ma soprattutto grande che voleva comprimere i salari e voleva vendere i propri beni e questo va un attimo focalizzato però perché alla base delle crisi c'è un conflitto e il conflitto in economia spesso è un conflitto su come ci si divide la torta e chi vince la battaglia in economia perde sempre la guerra questo è il problema e dopo bisogna tornare al buonsenso è un patto sociale che consenta di crescere equilibratamente allora ragioniamo un attimo sul fatto se lo Stato è sempre un nemico anche la crisi ha avuto dei lati positivi cioè non c'è nulla in economia questa è un'altra grande perla o pirla di saggezza cioè non esiste una cosa economica che sia intrinsecamente buona o cattiva la crisi ci ha obbligato a razionalizzare qui vi parlo di Einstein e del bidello io vengo da un'amministrazione pubblica e non ho mai avuto il bene di lavorare in un dipartimento universitario nel quale non ci fosse almeno una persona che non faceva un beniamato accidente di nulla non mi riferisco ai miei colleghi ma al personale amministrativo quando io stavo al Torato a Roma avevamo una simpatica persona che ogni tanto si metteva nei corridoi a cantare le litanie poi quella l'hanno presa l'hanno anche messa da un'altra parte perché stava meglio lì adesso sono in un dipartimento che è assolutamente efficiente è stato razionalizzato eccetera eccetera come? beh ora cominciano a diventare pesante la situazione perché la razionalizzazione lo sta cominciando a significare accentramento di tutto presso il rettorato ti serve una cosa devi perdere un sacco di tempo te come docente per diciamo ci stanno cominciando a togliere soldi per la ricerca allora lo Stato un ruolo comunque ce l'ha allora voi se qua c'è un imprenditore qualcuno di voi nel 1905 voi avreste finanziato una persona che fosse venuta a dirvi scusa io devo studiare la curvatura della luce io penso che voi non lo avreste fatto no? e se lui fosse arrivato nel 1919 voi avreste detto guarda ma io guardo ho ragione la mia cosa è un progetto interessante ti posso dire che sono riuscito a spiegare la precessione del perielio di mercurio con questo voi avreste detto ma che cazzo vuoi vuoi soldi per questa roba qua eppure eppure sulla base di questa ricerca è stata inventata la cellula fotoelettrica che è quella cosa che quando andate al bagno vi permette di lavarvi le mani senza toccare il rubinetto che eredita i germi di infinite generazioni di precedenti persone andate al bagno perché la cellula fotoelettrica deriva dagli studi di Einstein che si occupava di cose che nessun imprenditore avrebbe mai finanziato e per questo anche che il privato che è efficiente io ho studiato l'economia cinese ho visto in che modo il passaggio al mercato ha permesso a quel popolo di dimezzare per due volte in trent'anni il tasso di povertà lo sapete che se la povertà a livello mondiale è diminuita è solo per merito dello sviluppo della Cina e della sua apertura al mercato quindi quando uno studia quello non può non riflettere su alcune cose ma lo Stato ci vuole perché altrimenti noi staremmo ancora lì a girare il rubinetto che magari è stato toccato da una persona che chissà che cosa ha fatto con le sue manine sante chiaro il concetto? quindi non si sa ecco questo è il problema cioè il privato giustamente guarda il suo profitto e fa bene a farlo però ci vuole anche uno sguardo più ampio allora quindi come dire io sono un lavoratore pubblico improduttivo che ho prodotto ho prodotto un libro nel quale ho dimostrato che ci stanno fregando mi avreste pagato cinque anni fa per scrivere questo libro beh pensate che il mio editore non mi ha neanche pagato un anno dopo per cui voglio dire cioè voglio dire siamo siamo non sto dicendo un segreto vabbè e quindi ovviamente a proposito ricordatevi che se lo spettacolo vi ha divertito c'è un sito che si chiama asimetrie.org presso il quale potreste contribuire a sostenere l'attività di ricerca mia e di Claudio piccolo spot pubblicitario solo lo Stato può imporre delle regole che disciplinano gli eccessi del mercato lo Stato se lo considerate come un nemico vi meritate la banca universale vi meritate i bond argentini vi meritate tutta sta roba chiedete uno Stato buono che agisca che disciplini il mercato appresso il debito è frutto della corruzione in blu il debito in rosso l'indicatore di corruzione elaborato dalla banca mondiale dal 99 al 2007 non vi fate fregare il sistema europeo è intrinsecamente corruttogeno perché perché applica il principio della sussidiarietà privatizza tutti i bei servizi pubblici che poi naturalmente quando l'acqua diventa privata a chi se ne occupa ve o li ha con l'accento sulla A perché è francese non è italiano chiaro il concetto ecco favorisce la penetrazione dei capitali esteri la corruzione da cosa deriva ma è semplice c'è una pletora una miriade di piccole società fintamente private semi pubbliche ognuna col suo consiglio di amministrazione questo è questo è il modello europeo l'economia sociale di mercato fortemente competitiva basata sul principio della sussidiarietà vi piace? a me no perché i risultati sono questi e vedete che fra debito e corruzione da quando siamo entrati nell'Europa c'è una correlazione inversa perché il problema non è lì poi non credete ha le balle la colpa è del debito pubblico allora da quando siamo negli ultimi anni prima della crisi il debito pubblico è diminuito questo lo avete visto anche a servizio pubblico è aumentato il debito privato perché ve l'ho spiegato prima perché ci siamo progressivamente indebitati per lo più con l'estero per acquistare prodotti esteri ve lo dice anche Vitor Constanzio il vice governatore della BCE che questa è una crisi di finanza privata il che significa che il mercato ha fallito almeno in questo caso visibilmente allora non bisogna essere ideologicamente contro il mercato bisogna essere pragmaticamente a favore di una regolamentazione del mercato e quando ci si libera dall'euro e quindi si riequilibrano certi squilibri se si vuole che il sistema cresca comunque in modo ordinato bisogna porsi questo problema bisogna chiedersi quanta mobilità dei capitali vogliamo vogliamo separare le banche che fanno intermediazione del credito da quelle che fanno attività di investimento ecco queste sono le domande che ci dobbiamo porre e parliamo degli investimenti fissi vogliamo come il dottor Giannini su Repubblica l'altro giorno dire che ci dobbiamo liberare dal tabù dell'italianità e quindi che dobbiamo svendere all'estero le nostre aziende oppure vogliamo capire che molto spesso questa è un'operazione che aritmeticamente non ci conviene e quindi che possiamo cercare di mantenere in Italia ciò che è nostro vogliamo questo e parliamo anche di un'altra cosa parliamo parliamo anche di un'altra cosa perché i capitali non solo entrano per prendere ciò che è nostro ma escono anche con grande facilità caro Matteo domani ti taglio lo stipendio di 2000 euro e tu dici io ti faccio un'avvertenza e io delocalizzo e lo posso fare perché c'è mobilità dei capitali in questo modo la Germania è riuscita a abbassare il suo costo del lavoro perché si è aperta a est e perché si è voluta aprire così tanto a est con così tanta fretta mettendo in difficoltà tutti gli altri paesi dell'Unione Europea che avevano bisogno di fondi strutturali perché aveva bisogno di un bacino di mano d'opera a buon mercato presso il quale delocalizzare per fottere i suoi lavoratori e per fottere anche noi allora capite cosa capite cosa dico quando dico che c'è un legame fra mobilità dei capitali e compressione del potere d'acquisto dei lavoratori è questo e poi il lavoratore è costretto però a indebitarsi per andare avanti ti indebiti perché comunque ti vengono proposti dei modelli di consumo vuoi avere il flat screen non ti rassegna ad essere diventato più povero non è facile diventare più poveri non è facile e non è colpa dei cinesi se siano più poveri e perdonatemi adesso forse susciterò le ire di qualcuno qui presente recentemente forse non è colpa neanche dei migrati clandestini adesso sono Revole Borghezio mi aggredisce però lo dico con simpatia io vado sempre a parlare di corda in casa dell'impiccato è il mio secondo lavoro il terzo lavoro esatto e questo comincio a pensarlo anch'io e questo comincio a pensarlo anch'io perché vedete una segmentazione del mercato del lavoro favorisce sempre certi interessi in Germania ne hanno almeno due hanno la segmentazione fra ovest e est e poi ce ne hanno anche un'altra della quale magari parliamo non credete alle balle cioè noi abbiamo uno stato da riformare io ho fatto tanti esempi ma non siamo il paese più spendacione dell'Unione Europea questo è il rapporto medio fra spesa pubblica e PIL in Italia io non so se voi li conoscete questi dati perché certe volte a sentire i politici sembrerebbe di no ma non è una critica generica perché io detesto i ragionamenti generici i baroni i giornalisti i politici ognuno è una persona ognuno ha un suo percorso e questo è il percorso dei dati il percorso dei dati ci dice che i paesi che hanno la stesa più pubblica più grande in Europa in media dal 99 al 2012 ci sono stati Francia Finlandia Belgio e Austria fino a prova contraria quattro paesi virtuosi poi veniamo noi vicino alla media segue Germania Olanda Grecia Portogallo Spagna Lussemburgo Irlanda guarda caso Grecia Portogallo Spagna Irlanda sono agli ultimi cinque posti cioè sono i paesi che spendono di meno ma è così se poi Vitor Constanzio vicepresidente della BCE viene a dirvi che non è un problema di finanza pubblica ma lo saprà lui che è compagno di merende di Mario Draghi del pilota automatico lo saprà ben lui quello che è successo è successo che non dobbiamo prenderci con lo Stato perché ha speso troppo dobbiamo prendercela perché ha speso male eventualmente ma in questo momento in cui l'economia è in sofferenza noi non possiamo continuare a curarla col salasso come se fossimo dei medici del Seicento adesso esistono altre terapie e non possiamo assistere da economista accademico come sono io allo spettacolo penoso di Olivier Blanchard del Fondo Monetario che arriva e dice ci siamo accorti che il moltiplicatore keynesiano esiste fischia io l'ho studiato sull'Acle un libro stampato nel 1964 e tu adesso vieni 39 anni dopo a dirmi che ti sei accorto che esiste io lo sapevo da capito cioè state attenti all'uso ideologico che viene fatto di queste informazioni vabbè sentite io forse potrei fermarmi anche qui perché vi ho preso fin troppo tempo e veramente ho più voglia di sentire le vostre domande che le mie risposte tant'è vero che forse non ve le do o me le pagate a parte però il messaggio vorrei però trovare una sintesi e la sintesi è questa riferita al perché siamo qui allora intanto bisogna ringraziare Matteo per la sua intelligenza tattica e per essersi aperto al dialogo Matteo Matteo è stato folgorato sulla via di Damasco da Claudio che dobbiamo ringraziare dopo dopo di che ha voluto leggere il mio libro e mi ha invitato e siamo qui e ci ha invitato e questa è stata una cosa importante perché mentre per il mio percorso politico io mai mi sarei aspettato con tutta la simpatia che ho per gli italiani per gli europei io insegno in Francia parlo inglese tedesco scrivo in inglese parlo il tedesco ho provato fallendo miseramente a delocalizzare la mia attività riproduttiva con una tedesca e invece lui ci è riuscito io salutiamo anche Gabi questo è stato un fallimento io sto bene in Europa allora ringraziamo Matteo per aver capito una cosa fondamentale che le attuali regole europee stanno distruggendo l'Europa che amiamo e alla quale questa pianura è sempre stata aperta un po' perché ne è stata il campo di battaglia ma anche perché è stato il crocevia di tanti scambi è stato un motore non solo economico ma culturale importantissimo d'accordo? io vabbè non vi parlo del mio altro lavoro che è quello di musicista dove vi potrei parlare dei musicisti padani e del loro impatto sulla cultura europea quindi ringraziamo Matteo per questo ricordiamoci che è importante dare un messaggio deciso basta euro no euro è importante averlo detto tutti quelli che mi si sono avvicinati o si sono avvicinati a Claudio e potremmo raccontare tanti aneddoti ma ce li raccontiamo fra noi ci ridiamo sopra dicendo allora che si fa beh devi dire questo beh però sai io sono un politico devo fare così fai come ti pare sono tutti morti galleggiano lungo il Ticino li vediamo poi lungo il Po meno male ma meno male vedi meno male non so se meno male perché ripeto il terzo punto che voglio ricordare è che quest'Italia dovremmo comunque ricostruirla tutti insieme ben venga chi ha avuto il coraggio di dire una parola speriamo che sia premiato dall'elettorato ma deve avere il coraggio di dare anche e la capacità di dare un messaggio inclusivo e propositivo perché voi non lo so quanto potete pesare ma il 55% non lo avrete mai neanche se fate un salvinellum che attribuisce a chi porta la camicia verde un premio di maggioranza del 47% in più chiaro il concetto quindi bisogna che in qualche modo vi apriate a questo ecco e vi avrei voluto parlare anche di questo vi avrei voluto parlare anche di questo perché questo è un tema molto importante però veramente chiudo magari ce lo risolviamo per un altro incontro perché quando si parla di separare l'Italia dall'Europa naturalmente poi subentra il discorso ma allora perché non dividiamo l'Italia in due e io su questo qualche idea ce l'ho ve ne dico una sola intanto che è questa scusate mi è qui chiudo veramente fatemi chiudere voi vi rendete conto di cosa sta succedendo in Europa adesso in Europa ci dicono che se vogliamo stare dentro e per salvare l'euro i greci si devono tagliare il salario del 50% e lo hanno fatto gli spagnoli del 30% e lo hanno fatto noi del 10-15% e lo stiamo facendo come si chiama questa cosa come si chiamava questa cosa in Italia fino al 72 gabbie salariali esatto allora la sinistra che io vorrei tornare a votare adesso non me ne voglia l'onorevole Borghezio io sono de sinistra scusi onorevole la sinistra che io vorrei tornare a votare ha tolto le gabbie salariali dall'Italia e ce le ha imposte a tutti gli italiani difendendo il progetto eurista allora secondo me siccome siamo in un nuovo dopoguerra forse dovremmo anche cominciare a riflettere su un nuovo modello di flessibilità interno se vogliamo andare avanti piuttosto che affrontare una secessione che secondo me è più costosa in questo momento e della quale poi dopo si può anche parlare perché io non capisco perché in Europa ci debba essere il Lussemburgo che è piccolo quanto non lo so un quarto della Lombardia e poi non ci possano essere due Italia quando per mille anni ci sono sempre state questo io non lo capisco non lo capisco non lo capisco da Fiorentino non lo capisco da Fiorentino per il quale il mondo si divide in due Firenze e i barbari fra i quali voi un fuori programma un fuori programma uno scherzo allora io consegno a Matteo una lira questa è una lira vera quella con lo cornucopia e dall'altra parte c'era la bilancia ci siamo capiti io te la consegno cerca di farla tornare io sono disponibile ad andare anche te la consegno tieni è una lira vera io io sono disponibile ad andare anche sulle montagne visto che è considerato che la cosiddetta sinistra si è sempre avvocata a sé il fatto di avere avuto i partigiani vediamo se adesso ci stanno i partigiani quelli veri per ritornare e riprenderci la nostra sovranità io te la do tu hai la possibilità cerca di farla ritornare perché è lì la nostra salvezza e poi voglio dire scusate io ve la dico l'Italia anche io se fossi nato a Milano avrei votato Lega perché ho visto uno schifo in giro certo quelli si fregano quelli eccetera no aspetta aspetta però no ho vissuto anche ho lavorato a Milano quindi la conosco però fate un po' questo ragionamento guardate che se si dovesse ritornare veramente a una sovranità sovranità significa decidiamo noi significherebbe un azzeramento della classe politica con gente nuova facce nuova gente pulita gente non compromessa e significherebbe anche guardate non ho difficoltà a dirlo l'Italia può essere complementare se è ben guidata questa è l'importanza è chiaro che non va bene se si fregano ogni minuto le cose se fa schifo è chiaro è logico è normale ma se è ben guidata se è ben comandata l'Italia può essere complementare come nessun altro paese del mondo sta a noi farlo non agli altri capisco quello che tu dici lo capisco perfettamente perché lo capisco perché in questo schifo anzi pure poco dite forse al posto vostro mi cazzerei ancora di più attenzione esatto però perché c'è una situazione che ha permesso questo guarda quella lira ce la devi ridare no innanzitutto la devi ridare a tutti nelle tasche grazie due riflessioni e poi spremiamoli scusate spremiamoli fino in fondo abbiamo pagato la sala ancora per 30 minuti quindi usiamoli io direi siamo a Milano non sprechiamo neanche due centesimi condividiamo la battaglia principale poi ovviamente la possiamo coniugare io ho visto che l'Italia sia stata fatta entrare nel sistema euro pur non avendone alcune requisite per evitare la nascita di una padagna libera questo l'idea nessuno mi toglie questa idea che abbiano forzato la mano per fotterci poi siamo a novembre 2013 è inutile andare indietro mi auguro che giocate di controinformazione perché purtroppo da giornalista in un dibattito in un paese normale dibattiti come questi sarebbero da Vespa inviterebbero due non due contro perché ormai i contro sono gli altri inviterebbero due numeri alla mano e due degli euristi e farebbero un bel dibattito e poi uno si fa le sue idee purtroppo si lavora sotterraneamente sul blog con convegni con cose però anche la Lega è nata così quindi se ciascuno di voi diventa un moltiplicatore da domani su internet fuori io non li sapevo questi numeri a me hanno fatto la testa così che il problema era il debito pubblico stavamo morendo di debito pubblico siamo i più spendacioni siamo i più brutti e cattivi spendiamo molto meno di altri poi probabilmente altri spendono meglio però che il problema che ci abbiano montato la testa con altro due o tre domande secche scomode però appunto avete ragione però quindi cosa si fa si esce si discute si rottama domani corro anzi domani no che è domenica lunedì corro in banca gli consegno il banco ma ti ritiro tutto chiudo il piano di accumulo pensionistico mi compro subito un Audi perché poi altrimenti mi costa il triplo quindi mi invito a fare domande venite qua però per favore le domande 30 secondi e non interventi facciamo siccome siamo autogestiti no aspetta c'è il microfono allora in fila indiana qua come alla posta è acceso dietro si sente e visto che siamo in Italia come in posta l'ultimo in fila poi cerca di scavalare la fila e di arrivare davanti ne prendiamo 6 o 7 perché altrimenti poi diamo 30 secondi a testa per la domanda sono molto sintetico allora io ho letto il libro di Bagnai più di un anno fa lo conosco vi seguo benissimo vi conosco tutti e vi ammiro tantissimo io volevo fare una domanda alla Lega nel senso che c'è un partito in Italia che è stato il primo partito alle elezioni scorse il momento 5 stelle però alle prossime elezioni andrà a zero sicuramente perché ha fatto 6 al supernallotto e ha perso la schedina la domanda è molto semplice allora io sento che nella Lega c'è solo Matteo Salvini mi sembra che è per uscire dall'euro perché come dicevate tutti bene adesso il problema principale è l'euro perché è una casa incendiata e l'incendio il fuoco è presentato dall'euro io voglio sapere ma la posizione ufficiale della Lega non è come quel momento 5 stelle che è in campagna elettorale l'euro sì l'euro no forse facciamo il referendum non si sa e poi si prende un po' di voti e poi quando si è preso il 20% dei voti si va in Parlamento e dell'euro tabù non se ne parla più no perché io ammiro tantissimo te Matteo e ti auguro sinceramente che tu possa diventare il nuovo segretario no siamo in par condicio il nuovo segretario della Lega perché mi piace Matteo perché ha avuto il coraggio però io dentro la Lega non sento nessun altro oltre te non è vero c'è Mario Borghezio c'è Lorenzo Fontana c'è il segretario attuale Roberto Maroni che oggi ha tweetato ringraziando voi che siete qua presenti per il No Euro Day abbiamo la fortuna di avere un congresso per un mese con le tessere vere non con le tessere false perché quella è una prerogativa che lasciamo ad altri e quindi il congresso penso che deciderà nell'ottica del qual è l'emergenza la mia proposta sarà ma penso che sia ampiamente condivisa e condivisibile indipendenza sia da Roma che da Bruxelles i due binari che dicevo prima senza mezze misure poi è chiaro che abbiamo tre governatori che governano Lombardia Piemonte e Veneto che si trovano a lavorare a ragionare di impresa con la Svizzera con la Baviera con la Slovenia con la Carinzia però loro amministrano e governano la Lega dal mio punto di vista fa la Lega e la Lega da 15 anni aveva detto e dice a maggior ragione adesso che questa Europa non è la nostra Europa e questo Euro non è la nostra moneta quindi su questo la Lega parla una sola lingua non abbiamo per il Movimento 5 Stelle problemi loro non mi tocca hanno detto troppe cose e troppo diversamente solo perché l'informazione è quella che è 7-8 mesi fa sul Mond è stato pubblicato un documento di 200 economisti francesi che spiegavano come e qualmente si possa uscire dall'Euro io l'ho trasformato in mozione me l'ha firmato solo Salvini Speroni di tutto il Parlamento Europeo questo vuol dire che la Lega c'è grazie Mario se faccio un bel intervento me la dai anche a me la monetina adesso vediamo la prima cosa che devo dire è che io sono veramente felice di essere a questo incontro perché finalmente mi torna la speranza e sto dicendo davvero veramente e questa è la prima cosa che volevo dire la seconda non meno importante quella lì che sta girando ne vorrei una anch'io magari poi chi è che la emette e chi è che ne ha la sovranità abbiamo parlato cioè non ho sentito parlare di banche centrali di moneta popolare che mi sembra poi sia il concetto fondamentale della libertà sul quale già gli Stati Uniti col presidente Winston non voglio farla lunga e l'altra cosa che mi riprendo a un intervento di più di uno di questi relatori eccelsi è quello che per esempio con le privatizzazioni tra un po' privatizzeranno quello che è rimasto cioè l'acqua le municipalizzate e tutte queste cose qua io ho finito la merito la lira Bagnaio Borghi chi è che risponde chi stampa chi controlla allora grazie per la domanda allora io sinceramente non vorrei entrare troppo nel tecnico perché per tutto c'è una risposta vale a dire su come si può fare buona parte trovata nel libro del professor Bagnaio ma in ogni caso anche quello che non c'è si può essere spiegato quindi cerco però l'importante è prima come dire noi siamo al livello dove bisogna capire se vogliamo arrivare in montagna dopo che abbiamo deciso che vogliamo andare in montagna prendiamo la nostra mappa vediamo dove è il sentiero vediamo dove sono i punti pericolosi e così via e li spieghiamo nel dettaglio se invece abbiamo ancora il dubbio che uno sulla montagna non ci voglia andare oppure voglia andare al mare tante volte poi dopo è inutile che io spiego il passaggio del fiume o del guado comunque molto sinteticamente la moneta nel momento stesso in cui poi dopo ritorna o ci riprendiamo la sovranità monetaria diventa come era prima vale a dire gestita da una banca centrale ma noi vorremmo personalmente però penso che sia condiviso anche dai miei colleghi vorremmo flattornare prima l'81 vale a dire prima in cui prima il momento in cui per venderci che la banca centrale doveva avere la sua autonomia perché era molto meglio avere la banca centrale con la sua autonomia e quindi indipendenza abbiamo scoperto che in realtà ci scavamo la fossa da soli perché la banca centrale ha una funzione così importante così pervasiva che ce ne siamo resi conto ora di quanto è importante che è parte essenziale del governo di un paese e una parte essenziale del governo del paese deve essere sottoposta a un regime democratico non può essere totalmente avulsa che si fa il cavolo che vuole perché se no altrimenti non andiamo a casa più grazie altri 30 secondi abbiamo esaurito le lire il professor Bagnai ha detto onestamente che è di sinistra io volevo chiarire che sono certamente non di sinistra e leghista anche se da quello che ha fatto la Lega dal 99 in poi non sono molto d'accordo questo volevo dire che sono 14 anni è preoccupante ho parecchie critiche da fare quello che volevo dire è che però questa questione dell'euro ha dei fondamenti reali e ci sono delle motivazioni per lasciarlo che possono accumulare sia gente di destra sia gente di sinistra sia leghisti sia meridionali però vanno quindi si tratta di discutere sui dati ecco ci sono alcuni punti che a me non piacciono di chi propone l'uscita dell'euro perché in qualche modo dipende anche dalla formazione della propria formazione viene accumunata per esempio con spesa pubblica difesa dello Stato adesso si parla anche di banca centrale che è sotto il controllo politico che stampa moneta ecco spiego perché io sono contrario a fare tutta una zuppa di tutte queste cose e vorrei che i vari argomenti venissero gestiti in certa misura almeno separatamente moltiplicatore keynesiano può darsi che più spesa pubblica aumenti il PIL però sicuramente arrivare al 100% non ha funzionato e quindi non è un valore assoluto io credo che in realtà funzioni solo nel breve termine e non costruisca crescita duratura la banca centrale è stata scissa dal controllo politico nell'81 perché precedentemente c'era stato il periodo di stagnazione e inflazione cioè usare la banca centrale per fare inflazione alla fine non aveva funzionato poi c'era c'è stato anche comunque la cosa complicata la domanda ho solo 30 secondi allora quello che vorrei dire io è dunque diciamo che una domanda non ce l'ho volevo fare queste volevo fare queste critiche ma penso che Bagnai abbia colto il fatto che lo Stato diciamo che ho espresso qualcosa per cui delle risposte ci possono essere chiarissimo posso cedo il microfono a Bagnai con una notazione di servizio giornalistica a proposito del fatto che non è una battaglia di destra di sinistra del nord del sud della rava e della fava ma è la battaglia del buonsenso contro l'izia il consiglio federale della lega nord che era in corso mentre eravamo qua ha ufficializzato la richiesta di invitare al suo congresso quindi domenica 15 dicembre a Torino siete tutti ovviamente invitati tutti quei movimenti che hanno la nostra stessa posizione nei confronti di questa Europa e di questo euro quindi francesi quindi gli austriaci gli olandesi i danesi a prescindere dall'estrazione politico-culturale di provenienza allora visto che non c'era una domanda non ci sarà una risposta ma un breve discorsetto del seguente tenore innanzitutto il fatto che questo momento storico richiede il superiamento delle barriere ideologiche è stato perfettamente colto dalle persone di buon senso io mi sono rivolto come ho raccontato principalmente alla sinistra e prima ho scherzato sul fatto che la voce.info non abbia pubblicato un mio post in cui preventivavo il fallimento di Monti ma è stato molto peggio con un dibattito sui forum di sinistra dove c'è stata una censura della quale tanti altri si sono lamentati per esempio Sergio Cesaratto per esempio Grazzini per esempio io e quindi ho imparato anche a ricalibrare un pochino la scala dei valori fra sinistra e destra non tanto da un punto di vista della proposta politica quanto proprio dell'atteggiamento antropologico verso la libertà di pensiero a me non è mai successo ma vedete ogni volta che voi battete le mani mi date una frustata come Cristo alla colonna perché io mai avrei voluto dire questa cosa però purtroppo è vera e ho deciso di dire la verità la sinistra censura la destra non lo so ma finora non mi è mai successo bravi ma forse voi avete fatto un percorso diverso comunque perfetto dopodiché i simpatici politici diciamo come si dice a Roma il più pulito c'ha la rogna ma il problema non è questo adesso esclusi i presenti va da sé ma non è questo il problema il problema è capire chi è che apre al dialogo allora vi dico che io il 7 dicembre è stato richiesto alla nostra associazione la consulenza scientifica per organizzare un incontro e al quale verranno Jacques Sapir che è un economista marxista che sta diciamo così dopo aver scritto il programma politico del front de gauche cioè del partito della sinistra di sinistra in Francia si trova adesso ad essere il consulente de facto di Marine Le Pen perché dice che bisogna uscire dall'euro dopodiché verranno Diego Fusaro filosofo marxiano che conoscete il quale propugna anche lui l'uscita e che chiama la sinistra piddina il laboratorio di riproduzione culturale di questo capitalismo devastante ecco e verranno Brigitte Granville che è una economista viceversa liberista che propugna l'uscita dall'euro perché ritiene che l'euro come molti altri economisti del mainstream hanno dimostrato prima durante e dopo ostacoli le riforme anziché favorirle e questo sposa un po' la tesi di Matteo dopodiché però vorrei essere preciso noi la spesa pubblica al 100% del PIL in Italia non l'abbiamo mai avuta se io faccio vedere che l'abbiamo più bassa di altri mi trovo un pochino come certe volte in televisione quando uno fa vedere che il debito pubblico è sceso e ti dicono ma il problema è il falso invalido sì ma se il debito privato è triplicato fatti un attimo delle domande ci deve essere anche qualcos'altro e vorrei ricordare che la stagflazione degli anni 70 intanto negli anni 70 nonostante l'inflazione avesse anche raggiunto le due cifre questo è documentato nel testo e ve lo ricordate perché il prezzo del petrolio prima quadruplicò e poi di nuovo raddoppiò quindi si arrivò a fine anni 70 con un prezzo del petrolio che era otto volte quello che si era iniziato nonostante questo l'orrenda banca centrale che stampa moneta aveva comunque consentito ai lavoratori italiani di avere un salario reale che cresceva con la produttività la fase diciamo di controoffensiva è iniziata a partire dall'inizio degli anni 80 un pezzo della storia è stato il divorzio e quello è stato un pezzo della storia che ha permesso di comprimere i salari e che ha permesso di come dire l'esplosione del debito perché come vi ho spiegato il debito non è che nasce per cui uno decide oggi mi indebito il debito nasce quando ti comprimo in i redditi e tu devi mantenere il standard di vita semplicemente per assorbire quello che è stato prodotto oppure fai tante belle astronavi lo mandi su Marte e il problema lo risolvi così quindi sono d'accordo che è una battaglia diciamo trans ideologica ma va gestita in modo organico e è giusto che ci siano delle voci di dissenso perché poi i punti sui quali bisogna confrontarci sono esattamente questi 3 rapide sì più che una domanda è una richiesta il professore prima ha detto siamo alla ricostruzione forse siamo alla battaglia partigiana in questo momento siamo alla battaglia di liberazione e non ancora alla ricostruzione la richiesta ringrazio Salvini io sono di sinistra vengo dalla sinistra sono qui sono venuto ad ascoltare ad applaudire e vi ringrazio quello che chiedo a lei e alla Lega e a chi si fa la torre di questa battaglia è di pensare che è una battaglia di resistenza di coinvolgere tutti tutti perché i partigiani quelli comunisti combattono al fianco di quelli della DC poi se la sono vista dopo dopo quando c'è stato da ricostruire ma durante la battaglia si è tutti fianco a fianco io pienamente d'accordo non abbiamo gelosie o diritti di primogenitura da da rivendicare qua c'è in ballo più che il discorso economico il discorso della libertà che non ha prezzo e non ha e non ha colore quando c'è da combattere per tutto posso dire che però è motivo di orgoglio che sia un movimento dipinto spesso volentieri con un movimento di analfabeti un po' trogloditi tendenzialmente i vasodi fiscali e sicuramente razzisti e populisti offrire momenti di dibattito che altri banco lontanamente si sognano di offrire allora io io fondamentalmente sono favorevole all'uscita dell'Italia dall'euro ma ho il timore che l'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro possa generare una situazione economica peggiore di quella attuale quindi poiché in questo momento ci sono dei professori di economia vorrei essere rassicurato che non corriamo questo pericolo questa è la domanda tipo vediamo la risposta tipo allora la ringrazio io ho lavorato per tutta la vita in borsa e vi posso assicurare che c'era della gente ma rispettabilissima professionisti ottimi quindi in perfetta buona fede che quando un titolo da dieci era andato a uno diceva il peggio potrebbe ancora venire o va a meno otto oppure non era possibile quindi in realtà è abbastanza difficile cioè buona parte della distruzione che noi abbiamo visto e che noi abbiamo patito tenuto presente guardando in controluce l'immagine dell'Italia rispetto a come sta progredendo invece il resto del mondo perché non guardiamo solo il valore assoluto del nostro peggioramento guardiamo la crescita che non abbiamo avuto guardiamo quello che ci hanno rubato rispetto alla crescita degli altri ogni tanto guardiamo i gran premi vediamo i gran premi dall'altra parte queste cose avveniristiche cose di questo tipo il mondo è cresciuto noi non solo siamo stati fermi ma siamo tornati indietro quindi la differenza di quello che ci è stato rubato del danno che abbiamo subito è molto più grande rispetto alla semplice declino che noi abbiamo avuto io posso dire una cosa posso dire che quasi tutti gli effetti particolarmente dannosi che ci prospettano succederanno dopo l'uscita dall'euro noi li abbiamo già avuti se noi sentiamo normalmente il discorso dell'uscita tipico dei danni dell'uscita dall'euro dicono i nostri risparmi si dimezzeranno dicono la benzina aumenterà ma voi avete mai pagato la benzina 4.000 lire dicono come si chiama il valore delle case scenderà ecco poi ci sono delle cose di tattica vale a dire dicono i mutui saliranno questa è una cosa dove io mi sono sempre incazzato come una bestia perché quando c'era un giorno perché non bisognava disturbare il manovratore quando c'era un giorno in cui viene preso Monti per la collottola e spostato allora c'è stato quel giorno lì che lo spread ha fatto da 300 a 302 ecco i mutui costeranno di più ma brutti brutti terroristi ma il mutuo o è a tasso fisso e allora te ne frega niente o se è a tasso variabile è indicizzato all'euribor non allo spread vale a dire la media delle transazioni delle banche europee ma soprattutto se il terrore è che questa moneta poi non valga una fava essendo che il mutuo deve essere restituito nella moneta corrente significa che tu dovrai restituire una fava e allora quindi dal punto di vista se veramente fosse così che non è così comunque cioè quello che è normalmente l'argomento tipico questa sarà carta straccia benissimo allora io sono debitore il debitore cosa faccio devo restituire carta straccia è una brutta prospettiva penso di no quindi in generale stiamo parlando di tutta una serie di luoghi comuni orribili che devono essere smentiti ci stiamo lavorando sopra sto scrivendo un piccolo puscolo che grazie alla Lega vi verrà poi dopo facilmente reperibile sperabilmente per fine anno dove tutte le domande possibili relativi al mio risparmio alla mia casa al mio fondo di investimento cosa succede al mio mutuo e seminali saranno spiegate e quindi spero poi dopo che tutte le questioni troveranno risposte scusate aggiungo un concetto molto rapido l'Italia ha un partito unico che è il partito unico dell'euro il cui fronte oggi mi sembra si stia incrinando e questo partito ha un'ideologia unica che è il luogo comunismo noi siamo dominati dai luoghi comuni io mi sono lievemente alterato con un collega molto prestigioso il quale due anni fa se n'era uscito con questa storia che se noi fossimo usciti dall'euro avremmo avuto una svendita delle aziende italiane e ha evocato il concetto di fire sales dicendo che solo lui in Italia lo capiva perché ne aveva parlato Krugman non faccio nomi per carità di patria perché vabbè io ho risposto con un articolo sul mio post che si chiama smoke sales cioè vendita di fumo che è quello che certi economisti vendono in cui ho fatto la lista di tutte le aziende che sono passate in mano estera una lista che ogni giorno cresce perché sbriciolate da una competitività svantaggiosa e sbriciolate dalla crisi finanziaria le banche non le finanziano più perché preferiscono dare i loro soldi allo Stato per tenere basso lo spread come si fa a dire che c'è qualcosa di peggio di questo se non si è dei fantocci ideologizzati e legati a delle logiche di un partito X che peraltro è anche moribondo questo mi chiedo sempre dalla domanda prima piccolo contributo sempre in omaggio al fatto di chi mandiamo a Bruxelles a trattare vi ricordate chi ma voi pensate che oggi ci sia una maggioranza politica in grado di proporre realmente l'uscita dell'Italia dall'euro no dall'euro che abbiamo e ritornare alla prova sovranità bravissimi guardate che saranno gli eventi che ci costringeranno a uscire e qui nessuno ha fatto un piano o perlomeno speriamo che l'abbiano fatto ma non mi fido se l'ha fatto Montialletta il piano scusatemi bravo per poter uscire in maniera ordinata perché sicuramente non saranno rose e fiori è onesto dirlo però una cosa è certa che in questa maniera noi finiamo di morire perché noi moriamo un domani se ritorniamo alla nostra sovranità non esiste paese che fallisca che abbia invece la propria sovranità si svaluterà ma avrà sempre la possibilità per la fine e poi ricordate l'Italia è ancora il secondo paese con la seconda impresa manifatturiera non è il Zimbabue l'Italia perché a noi ci fanno spacciare per essere come la Zimbabue scusate dei 28 paesi che adesso compongono l'Unione Europea noi siamo la seconda impresa manifatturiera ma non vi viene poco 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 così che ci hanno messo veramente in ginocchio volutamente non vi arriva così per caso quindi state certi che se dovessimo ritornare con la nostra sovranità e non solo sovranità popolare che vuol dire anche sovranità monetaria state certi che iniziamo di nuovo a fare paura è proprio quello che volevo chiedere a voi la difficoltà di far passare questa idea a Bruxelles di poter uscire dall'euro ordinatamente qualora non fosse possibile si può pensare a un discorso di una moneta complementare? chi risponde sulla moneta complementare vai allora ne ho studiato molte di monete complementare ne ho anche proposta una nello specifico il bot molto banalmente se noi come dire i famosi crediti delle imprese li dessimo in bot ma soprattutto perché finché li danno lo stato è contento ti pago in bot così poi dopo tanti saluti ma se le accettassi lo stato in pagamento delle tasse a questo punto noi potremmo farci girare dei bot magari di piccolo taglio non so uno da 100 colorato in verde uno da 50 colorato in arancione e così questo tipo così ci abituiamo a avere in mano qualche cosa perché tante dei terrori che noi abbiamo è oddio non c'ho più i soldi signori non c'ho più i soldi se tutti chiunque abbia una carta di credito va in Svizzera a fare la spesa e non se ne è neanche accorto che ha pagato in franchi piuttosto che un'altra moneta non se ne accorge però se per abituarci al contante si potrebbe fare la moneta parallela ma è solo una questione d'abitudine la moneta parallela non serve a nulla dal mio punto di vista se non ha un cambio differente rispetto alle altre valute cioè noi abbiamo bisogno di ricalibrare il nostro orologio che è rimasto indietro di mezzo giro noi dobbiamo far sì che il cambio flessibile ci continui a dare invece ci assegni un valore della moneta giusto per la nostra economia altrimenti se io faccio una moneta parallela ma che è parallela e bata non faccio nulla sì ho capito la stappiamo la stappiamo no no sono d'accordo la moneta parallela stappiamo quanto vogliamo di questo tipo ma se non è convertibile a uno a uno con l'attuale moneta nostra corrente non serve a nulla perché a quel punto poi diventano i punti dell'essere lunga dopodiché invece deve essere deve avere un rapporto di cambio con le monete estere quindi ci vuole una moneta nazionale che abbia un cambio differente con la moneta estera altrimenti non conta niente il nostro debito è messo in euro non posso se faccio passare una moneta parallela è sempre messo in euro io devo cambiare la mia moneta devo cambiare i contratti perché sennò non funziona scusate no fra sei minuti ci portano fuori di peso ne prendiamo tre al volo a ripetizione poi ci teniamo un minuto di chiusa la testa allora volevo solo aggiungere scusa una cosa in merito a come si esce e quando si esce vi ribadisco il concetto che Jens Weidman ha detto sostanzialmente ha chiamato il blef di Draghi perché ha detto che lo stress test cioè la verifica dell'affidabilità delle banche dovrà essere fatta considerando rischiosi i titoli pubblici dei paesi periferici cosa che fino adesso formalmente non veniva fatta e quindi ha detto a Draghi tu con il tuo OMT non riuscirai a difendere l'euro punto quindi nel mio libro in particolare io esamino uno scenario di uscita unilaterale dell'Italia ma lo faccio per combattere le paure che criminalmente la stampa ha instillato nei lettori essendo a servizio di un certo tipo di politica e questo è il problema però non è che questo sia né uno scenario particolarmente come dire non saprei attribuirgli una probabilità e non lo auspico quello che auspico e che probabilmente auspica anche Weidmann che è molto più importante di me e se lo merita è che se ne esca la Germania e vi ricordo che esiste un sito europeansolidarity.eu dove trovate il manifesto di solidarietà europea che è una proposta organica e costruttiva di smantellamento dell'eurozona partendo dai paesi del nord che è uno scenario che secondo me sta acquistando plausibilità in questo periodo tutto qui scusate grazie tanto no prego anzi grazie agli esimi professori che sono arrivati qua grazie a Matteo e grazie a Matteo che finalmente ci parla di queste cose ne fa parlare a tutti noi io volevo chiedere come si aggancia a che cosa si aggancia la moneta la lira eventuale tra l'altro una lira ce l'ho quindi non ve la chiedo e ce l'ho nel salvadrive a che cosa si garantisce su che cosa su che base si garantisce la nuova moneta nazionale perché poi a me personalmente perché io è un anno e mezzo che parlo di queste cose e mi dicono ma poi a che cosa allora non vorrei che siccome si sente dire cosa ce ne facciamo delle riserve aure terze del mondo cosa ce ne facciamo cosa ce ne facciamo di tutto il patrimonio pubblico non ci serve a niente non vorrei che fossero delle cose buttate lì per dirci per fregarci come diceva il professor Bagnai allora mi chiedo a che cosa su che cosa e poi soprattutto seconda parte come si fa a creare un movimento e questo lo chiedo a Matteo perché purtroppo è lui il solo che può dirlo un movimento da 40% dei voti 30-40% che ci possa far vincere le elezioni e avere il consenso tale per cui signori di Bruxelles noi vi salutiamo perché è questo il punto grazie mi prendo un minuto per pensare come arriviamo al 40% intanto chi è che risponde guardate allora dunque il sole in questo momento sta tramontando giusto? quindi sta girando intorno alla terra giusto? era così? o no? ecco allora perché quando si parla di moneta nel ventunesimo secolo si parla sempre di cose che luccicano? cioè vi spiego una cosa sapete come funziona? funziona così perché l'euro ci frega? perché quando c'era il marco se tu volevi un'automobile tedesca dovevi comprare un pezzettino di carta dove c'era scritto Deutsche Mark del quale non te ne fregava niente quanto valesse intrinsecamente ti interessava il valore facciale non te ne interessava niente di chi fosse proprietasse del popolo di un venusiano o di ti serviva a comprare quel bene e più tu volevi quel bene più il valore di quel pezzettino di carta cresceva perché c'era un mercato che si chiamava e si chiama dove esiste mercato valutario che è esattamente quel mercato che gli oligarchi che hanno creato questo sistema centralizzato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Europee ha voluto uccidere imponendo il prezzo pianificato di una lira per un marco capisci un euro italiano per un euro tedesco allora il valore a cosa si aggancia si aggancia alla domanda offerta dei beni che un paese produce è la nostra creatività la nostra produttività che fa il valore della nostra moneta d'altra parte il fatto che quel mercato sia stato bloccato paradossalmente avvantaggia le persone che non vedono crescere il prezzo dei loro pezzi di carta e in questo modo fregano noi quindi poi sull'oro non lo so io penso non sono un gioielliere sono un economista quindi loro mi interessa poco magari sbaglio dico queste cose in pubblico se sbaglio mi correggeranno tranquillo che già ci sono 67.000 troll su Twitter questo è come la vedo io il 40% si fa dicendo la verità perché se io sono partito da zero e sono arrivato ad essere il secondo blog in Italia non è che l'ho fatto perché ho raccontato fesserie quindi datevi da fare ho bisogno di un altro minuto per capire come arrivare al 40% quindi intanto salve io sono Uri di Economia 5 Stelle siamo un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle che da sempre è favorevoli all'uscita dell'euro e cerchiamo di far diventare questa linea anche la linea del Movimento 5 Stelle con molte difficoltà diciamo così la mia domanda è una domanda molto precisa quanto diciamo che usciamo dall'euro e facciamo la fluttuazione del cambio eccetera eccetera quanto dovremmo pensare anche a misure protezionistiche per le nostre merci e per la nostra economia rispetto a economie emergenti come la Cina eccetera questa è la domanda grazie grazie per la presenza grazie per la domanda guarda paradossalmente le misure protezionistiche non le dovremo mettere noi le metteranno gli altri per le nostre merci chiaro perché inizieremo di un uomo ripeto a far paura è chiaro riaggaggiamo per quello che ha detto prima Alberto che noi facendo parte del manifesto di solidarietà europeo noi vogliamo questa uscita concordata ci vogliamo mettere d'accordo perché non è che domani mattina prendiamo la Francia la stacchiamo la Germania la saremo condannati a vivere sempre in questa Europa quindi è meglio che ci mettiamo d'accordo da bravi amici d'altronde scusate ma quante persone sono nella propria vita hanno avuto purtroppo dico la vicissitudine di separarsi in casa prima si litigava a morte quando si era moglie e marito il giorno dopo magari dopo aver fatto il divorzio si è diventati amici e noi vogliamo questo cioè non è detto Alberto ha scritto una cosa meravigliosa nel mio libro è una postfazione e ha scritto che te lo ricordi perché l'hai scritto te non ho il negro no non ho il negro esatto no ha scritto una cosa meravigliosa riconoscere i propri errori è un atteggiamento adulto qui si è fatto un errore madorrale riconosciano noi lo sappiamo ma chi riconosca che è stato fatto un grandissimo errore quindi non vi preoccupate le protezioni purtroppo forse le metteranno gli altri perché le protezioni nostre le metteremo noi perché quando troveremo sugli scaffali il famoso latte padano ha molto molto meno del latte bavarese noi ci compreremo quello padano non solo perché costa di meno ed è anche più buono capito quindi è lì che glielo facciamo noi e si incazzeranno da morire si incazzeranno da morire i bavaresi però a questo punto non voglio andare oltre cosa gli rispondiamo ecco capito ma la Cina dunque allora mi scusi però vede cerchiamo allora quello che dico sempre ai miei studenti è questo l'economia è una scienza fatta di pezzi estremamente semplici perché ognuno di noi sa almeno un paio di cose la prima cosa è che c'è la legge della domanda e dell'offerta se tu vai a comprare il pesce il venerdì è diverso se ci vai sabato a luna prima che il mercato chiuda banalmente a quel punto il pesce è in eccesso di offerta e il prezzo scende un'altra diciamo così queste piccole realtà il problema è tenere i cocci insieme allora intanto va da sé che c'è un ravviso una lieve incongruenza come ho detto l'altro giorno a un interlocutore molto più autorevole che è il professor Vaciago nel diciamo preoccuparsi di una perdita di competitività nel momento in cui si lascia adeguare il valore di una moneta sopravvalutata al valore di mercato questa è la competitività la migliora per cui non capisco perché ci dovremmo preoccupare il discorso cioè lei cosa sta auspicando non capisco questa è una sua opinione ma questo questo lo mette in overshoot in guardia il problema il problema è che evocare il protezionismo secondo me è una cosa intanto sostanzialmente inutile in punto di fatto perché nel momento in cui tu lasci funzionare il meccanismo naturale di riequilibrio della bilancia dei pagamenti che è il tasso di cambio di misure di barriere di prezzo sostanzialmente ne hai meno bisogno poi può esserci un discorso selettivo per cui vuoi proteggere alcuni mercati se ne può parlare ma il punto è che in termini politici in questo momento immersi in 30 anni di bagno di retorica euro liberista secondo me evocare il protezionismo è un argomento politicamente anche debole perché ti espone ah tu vuoi tornare le guerre commerciali ma non ha minimamente senso perché voglio dire parliamoci chiaro se noi prego allora allora voi avete un'idea voi avete un'idea di quanto chiuso nel 90 facciamo gli ombretti li portavano la sua ditta hanno potuto lasciarti a casa perché gli ombretti se va a comprare 5 euro gli operai qua non ce la vanno perché non chiuso il bagno allora perché c'abbiamo l'euro con la lira non chiedeva allora ordinati il signore non ha bisogno di microfono perché ha subito un'esperienza brutta che dobbiamo rispettare e della quale dobbiamo comprendere le ragioni che sono tante io vorrei anche fare un discorso più generale evitiamo di prendere il discorso dell'euro come un discorso autoassolutorio nel senso che ognuno di noi ha le sue responsabilità ognuno di noi sa quanto si è impegnato molte volte il successo il fallimento di un individuo possono dipendere anche dal caso può esserci un evento fortuito che cambia la tua vita ognuno di noi ce l'ha avuto nel bene o nel male io non sto dicendo che noi non abbiamo le nostre responsabilità perché una classe politica ha fatto una scelta palesemente sbagliata in termini tecnici magari con buone o con cattive intenzioni le responsabilità individuali rimangono i percorsi individuali che vanno rispettati però la Cina sta rivalutando il proprio cambio reale in Cina il salario dei lavoratori stanno aumentando le aziende americane a basso valore aggiunto stanno rilocalizzando dalla Cina negli Stati Uniti questo già l'anno scorso lo diceva il telegiornale francese cioè la globalizzazione spinge evidentemente verso un'equalizzazione dei livelli di reddito certo che noi ci dobbiamo proteggere ma nel momento in cui ripristiniamo flessibilità del cambio quella è già una protezione perché io parlo con molti imprenditori e poi dipende anche in che settore sei io purtroppo del settore per esempio degli ombrelli non ho esperienza diretta ma nel tessile per esempio tanti mi dicono a noi basterebbe avere una moneta più debole del 10% e potremmo competere con la nostra qualità col prodotto cinese perché noi siamo ancora ad alto valore aggiunto se non ci automassacriamo quindi il problema è un po' anche questo cioè non sto negando né il percorso né il fatto che racconta il vostro l'altro ascoltatore insomma non lo sto negando ma le dinamiche di fondo vanno nel senso di rendere voglio dire negli anni 90 la Cina contava per il 2% del nostro commercio la Germania del 10% ma noi ci vogliamo preoccupare di un colosso che abbiamo qui o di un paese che comunque in termini economici ha superato il 10% del PIL mondiale tre anni fa cioè è certo che il nostro interscambio il 50% del nostro interscambio è con i paesi dell'area euro certo che la Cina sono un miliardo e sei di persone di cui un miliardo si possono permettere ancora un pugno di riso al giorno e forse la ciotola per mangiarlo quindi cerchiamo di capire anche i pesi cioè non usiamo neanche la Cina come scusa perché la Cina è stata usata come scusa dai vari gozzi dai vari boccia dai vari per dire ah c'è la Cina cattiva che ci minaccia allora uniamoci tutti insieme sotto l'euro che ci protegge attenzione anche a questo perché la Cina fondamentalmente di noi se ne batte è chiaro il concetto a altri mercati dopodiché esistono settori nei quali ovviamente ci ha massacrato è chiaro che la fine dell'accordo multifibre è stato uno shock per l'industria tessile europea e sono chiare tante cose però secondo me il vero problema rimangono sempre quei 50% del nostro commercio che si rivolge al nord dell'Europa e in confronto al quale noi subiamo un ingiusto uno sleale svantaggio di prezzo fino ad oggi li abbiamo subito da entrambi i fronti abbiamo l'euro e abbiamo provato a mantenere tutte le protezioni doganali che con l'euro era un ancore di salvezza ma da questo punto di vista avendo regalato a Bruxelles la scelta su tutta la politica commerciale hanno tolto i dazi sul riso sulle calzature sul mobile quindi cornuti e maziati purtroppo perché senza l'euro potremmo permetterci i competere ci hanno messo la palla al piede destro che è l'euro la palla al piede sinistro hanno tolto tutti i dazi manca la croce e poi abbiamo finito allora io ho due cose veloci una è già stata in parte accennata prima dal signore per la moneta complementare io non so se avete letto il manifesto di Libera Europa c'è dentro Andrea Benetton Giacomo Zucco del Tiparti hanno proposto una cosa simile cioè una doppia moneta non proprio moneta complementare mantenere l'euro per gli scambi chiaramente a livello internazionale e l'altra tipo per pagare gli stipendi statali quindi fare svalutazione o comunque fare una politica economica diversa con l'altra moneta l'altra cosa invece la volevo un'altra domanda la volevo fare al professor Bagnai che ha due io condivido quasi tutto però ha due peccati originali per me uno perché è fiorentino io sono pisana l'altro l'altro è che è un chienesiano cioè io non credo che la politica comunque la spesa improduttiva produca ricchezza anche perché noi in Italia di spesa improduttiva abbiamo fatta tanta vediamo i forestali che nemmeno non diciamo non scavano nemmeno le buche e le ripiempiono mangiano l'acchio dalla mattina alla sera come fa a vedere le iene come dice il buon Salvini sempre in tutte le trasmissioni e non producono ricchezza anzi svuotano una parte delle tasche del centro produttivo che lavora dalla mattina alla sera per pagare le tasse anche queste persone che fanno invece spesa improduttiva grazie assolutamente sì come posso perdere l'occasione di parlare con un'interlocutrice coraggiosa brillante e anche affascinante allora mettiamo le cose in chiaro adesso spero di non trovare adesso un morto in stanza visto che avevo in ogni caso io ero qui quindi ho un alibi non sono stato io guardi le dico una cosa una delle cose anche che allora precisiamo sono d'accordo che una riqualificazione della spesa pubblica può essere estremamente utile e anzi è necessaria e doverosa in Italia così come secondo me una riorganizzazione della pubblica amministrazione io vengo da una famiglia di imprenditori artigiani c'è un po' di tutto ci sono anche gli imprenditori e ho più volte da quando ho aperto il blog ricevuto testimonianze di imprenditori perché in Italia lo Stato anche quando chiede ciò che deve avere si presenta sempre come un nemico e si presenta come se tu volessi fregarlo quando anche sei onesto io questo non riesco a capirlo d'altra parte però io sono uno che viaggia con la cintura e quando vede i carabinieri non frena perché non sta andando a 140 in un centro abitato ma insomma a quei 60-70 che a Roma sono tollerabili provate a beccarmi se ce la fate tanto vi vedo comunque chiaro anche noi abbiamo interiorizzato questo atteggiamento per cui siamo antagonisti dello Stato e quindi ogni volta che vediamo una divisa ci preoccupiamo io ho avuto pure la fortuna di portarla per cui non mi preoccupo di meno vabbè ok però adesso veniamo al punto il punto che l'economia è fatta di cose facili che però vanno un attimo capite perché l'economia esiste perché esiste lo scambio per gli economisti bravi oggi ho incontrato Fausto piuttosto che ci saluta e gli dispiace di non essere qui per gli economisti bravi esistono dei modelli che si chiamano un modello Robinson Crusoe che sono molto belli vengono pubblicati su American Economic Review dove c'è un unico uomo che è tutta l'economia c'è un albero che gli dà dei frutti lui li investe un complicatissimo modello matematico per dimostrare fondamentalmente che deve piovere sul bagnato ma non esiste questo in realtà l'economia esiste perché si ha almeno in due e in due uno dà e l'altro prende anche se è pisano o viceversa capisce qual è il concetto quindi quando lei parla di spesa pubblica si dovrebbe sempre ricordare che la spesa pubblica è un reddito privato purtroppo poi può essere un reddito privato diciamo così improduttivo in un'ottica di lungo periodo se il mio dipartimento compra in questo momento 100 risme di carta a una cartiera che sta chiudendo e gli dà dei soldi cosa che non può fare peraltro quindi è un caso assolutamente impossibile e io poi invece di andare a fare lezione sto nella mia stanza con le forbicine faccio tanti coriandoli li butto dalla finestra questo è chiaramente improduttivo ma secondo lei il proprietario della cartiera è contento o no e poi non banalizziamo Keynes a questo tipo di discorso che è ovviamente estremo Keynes ha fatto un discorso che non è scaviamo le buche e riempiamole Keynes ha dimostrato qualche cosa di più profondo cioè che i mercati finanziari purtroppo intrinsecamente non sono in grado di allocare in modo efficiente il capitale perché tu non vai a comprare un'azione perché credi in quell'azienda e sai che fra 15 anni il suo meraviglioso progetto creerà chissà che cosa ma perché tu come sa benissimo Claudio pensi che fra 15 secondi se sei abbastanza forte e ti muovi e dai un segnale al mercato così tanti fessi compreranno quel pezzo di carta che tu potrai rivenderglielo al doppio del prezzo questo ha detto Keynes questa è la cosa importante è per questo che viene demonizzato perché ci chiede ci interpella e non ha saputo lui dare una risposta che non sia quella di come dire mettere lo stato a presidio del mercato che è una risposta imperfetta ideologica sono d'accordo con lei una risposta non l'ha saputo dare ma ha saputo segnalare un problema cioè il problema che in mercati dominati dalle aspettative di breve termine fatalmente non si riesce a convogliare il risparmio dei cittadini che nel capitalismo è il bene più prezioso non sempre verso impieghi produttivi nel lungo periodo questo è il problema su questo dobbiamo confrontarci e unirci il discorso della buca e del forestale guardi io non lo so non sono un esperto di foreste quindi però ci siamo capiti da fiorentini da ex fiorentini poi sono anche un ex deve capire che la differenza ma probabilmente neanche i forestali in Calabria sono esperti di foreste quindi è una è una lacuna che accomuna io io vi ringrazio e conto chiudo solo con questo che sia l'inizio di un percorso nel senso che mi hanno chiamato tante persone da Verona da Cuneo da Bologna pensare male non fa mai male e quindi se riusciamo a rimettere in moto un pensiero e a controinformare sicuramente ce la facciamo il professore poi si ferma fino alle 11 a firmare i libri lì fuori ve lo lasciamo in ostaggio evidentemente grazie a tutti e da domani in battaglia da domani in battaglia veniamo qui veniamo qui a farli firmare ma non c'è un posto più comodo abbiamo il pateo giusto sì il pateo di turno quanti punti sono doveva rinnovare per sé e doveva firmare a casa